Ok, allora vi chiedo perdono per questi minuti di ritardo, ma devo dire che siamo in una situazione assolutamente anomala. Nel senso, vi ringrazio tantissimo per la partecipazione, devo dire, fuori di testa, che ci ha colti di sorpresa, ma ben venga. Quindi, assolutamente, scusate la confusione, mi sono dovuta spostare in un altro punto dell'ufficio, ma davvero siamo una piccola città oggi. Allora, tra di voi ci sono anche diverse persone che normalmente non assistono ai nostri webinar, quindi qualche informazione di servizio. Domani riceverete la registrazione dell'intero incontro, magari ci tagliamo i due minuti iniziali di spaccelo, le slide e i certificati di partecipazione. Ringrazio chi ci sta seguendo su YouTube, su Facebook, che non ci può seguire, che non ha potuto accedere a GoToWebinar. Il motivo per cui mi avete visto un attimo in difficoltà è stato proprio perché c'erano migliaia di persone che stavano cercando di entrare contemporaneamente e il mio computer ha iniziato a fare delle schermate, devo dire, quando la tecnologia sembra impazzire e ci vuole la risorsa umana. Quindi ringrazio il mio collega Marco che sta rinunciando al suo computer in questo momento per garantirmi la trasmissione. Non lo vedete, ma c'è una regia qui oggi abbastanza importante, sarà molto semplice quello che andremo a fare insieme, però davvero abbiamo una quantità di richieste che richiedono un'infrastruttura tecnica tutt'altro che banale. Normalmente siamo abituati a 2-3 mila persone, le gestiamo tranquillamente, oggi siamo su numeri di tutt'altra portata. Quindi innanzitutto grazie di cuore, non è per nulla scontata, sono onorata, spero di non dire troppe stupidaggini. Parto subito perché oggi il webinar sarà davvero denso, abbiamo tanti contenuti da vedere insieme, non li vedremo solo con me. Quindi ditemi innanzitutto se vedete quanto vi sto mostrando, quindi ditemi se si vede lo schermo. Si vede, mi dicono i colleghi, ma loro sono di buon cuore, spero lo sarete altrettanto anche voi. Allora, piano scuola 4.0, abbiamo identificato delle fasi, poi le vedremo insieme in modo da capire di cosa stiamo parlando. Questa è la fase 1, abbiamo identificato anche una fase 0 perché in realtà abbiamo iniziato a proporre dei materiali per affrontare il PNRR e piano scuola 4.0 già da diversi mesi, insomma trovate una playlist molto nutrita sul nostro canale YouTube. Abbiamo fatto un incontro molto bello a Modena, nel senso proprio molto grande, che abbiamo trasmesso, ne è nato un webinar di quasi tre ore insomma con il dirigente scolastico Daniele Barca, l'architetto Francesco Bombardi con Gabriele Benassi e insomma le risorse che abbiamo cercato di mettere in mare, tra virgolette in questo mare in cui ci troviamo a navigare tutti insieme sono state tante, però diciamo che avevamo bisogno di indicazioni operative un pochino più specifiche per fare i prossimi passi. Queste indicazioni sono arrivate a fine dicembre e quindi abbiamo iniziato a lavorare. Quindi andremo a identificare delle fasi, l'idea è quella di proporvi degli strumenti a supporto ideali e adeguati per ciascuna di queste fasi. Ora siamo andati a identificare la fase 1. Quindi vediamo innanzitutto l'agenda di oggi, dopo una rapidissima introduzione, giuro andremo a vedere il bando, mi perdoni chi è bravo, ha studiato, si è preparato, ma andremo comunque a ripassare insieme i punti salienti del bando perché sono fondamentali, poi andremo a vedere le risorse che vi abbiamo già messo a disposizione con qualche anticipazione sulle risorse che troverete invece sulle prossime settimane e poi per le prossime fasi. Vedremo poi cosa è necessario fare con una sorta di cronoprogramma interno e con delle buone prassi e poi alla fine avremo lo spazio per le vostre domande, motivo per cui abbiamo voluto fortemente che questo incontro si tenesse in diretta. Vi anticipo già i prossimi appuntamenti. Per chi ci segue da un po' sapete che noi teniamo normalmente diversi webinar, questi non sono gli unici webinar che terremo nelle prossime settimane, ma sono i tre specificatamente dedicati alla fase 1, che è questa, di PNRR e nella fattispecie di Piano Scuola 4.0. Quindi sono webinar verticali su questo argomento. Chiaro che poi se dovremo andare a parlare di robotica o approfondire, che ne so, la singola soluzione, l'hybrid learning eccetera, magari vi proporremo altri incontri in corso d'opera. Questi sono quelli in cui ci concentreremo specificatamente su quelle che sono le richieste in fase progettuale, che è quella che stiamo affrontando e che vi possono essere utili. Quindi ci vediamo tra due settimane con l'architetto Francesco Bombardi, con una nostra proposta di ambiente, una nostra proposta di idee e di progettualità a vostra disposizione. Poi ci rivediamo all'inizio di febbraio, il 9 precisamente, ci piacciono i giovedì. Sarà perché qua a Bassano c'è il mercato, non lo so, magari fin da piccola così l'ho trovato un giorno di festa. E quindi ci piace anche poter vivere questo momento un po' con leggerezza, non per banalizzare la cosa o per viverla con superficialità, ma sappiamo in qualche modo che il PNRR è un'avventura che stiamo apprestandoci ad affrontare, che ci accompagnerà insomma almeno corposamente per i prossimi due anni. Quindi affrontiamo con serietà ma anche con un pizzico di sana meraviglia. E poi ci rivedremo il 23 febbraio, vi ricordo, poi lo rivedremo meglio nelle scadenze che entro il 28 vanno consegnati i progetti, consiglio di farlo prima, ma ci rivedremo il 23 per iniziare a parlare un po' di soluzioni concrete. Quindi parleremo di metaverso, visto che tanto riferimento si fa comunque all'interno del piano al metaverso, anche definito eduverso, e di futuri possibili. Quindi vedremo degli strumenti un pochino più spinti rispetto alle soluzioni un po' più di base che andremo a vedere nei prossimi. primi tre incontri, ecco. Chi ci sarà con me? Sarà con me, e lo ringrazio molto, si unirà a noi più tardi, Fabrizio Costantini, che è il direttore dei servizi generali amministrativi dell'ITS Alessandro Volta di Pescara, una scuola molto grande e che negli ultimi anni ha gestito delle progettualità molto complesse. Abbiamo fortemente voluto la professionalità di Fabrizio, vedrete, vi ha preparato proprio un va de mecum passo dopo passo, fondamentale e l'abbiamo, insomma, fortemente caldeggiato, lo ringrazio tantissimo per aver accettato, perché secondo noi questo non è il momento delle, passatemi il termine, soluzioni commerciali del carrello pronto, ma è il momento di capire, ok, dovete consegnare un progetto, cosa dovete fare, cosa ci deve essere in questo progetto, vi anticipo che degli esempi di progetto li troverete nel sito Campus Store già da domani, ma poi lo vedremo meglio nel dettaglio. Quindi noi vi possiamo dire, fin lì, insomma, noi ce lo studiamo bene, ma Fabrizio, avendo la possibilità anche di essere proprio dentro la piattaforma, quindi di farvi vedere passo passo cosa è necessario fare, anche sulla base dell'esperienza che ha, proprio di gestione di progetti molto articolati, quindi davvero lo ringrazio. Perché siamo qui, abbiamo oltre 30 anni di esperienza, scusate se vedete persone alle mie spalle, ma è un po' così, è vissuto in modo molto sentito l'incontro di oggi, abbiamo 30 anni di esperienza nell'affiancamento delle scuole, passo passo, insomma, questo tipo di progettualità, abbiamo insomma ricevuto diversi riconoscimenti nel corso degli ultimi anni, in particolare quest'anno Lego Education, la divisione del gruppo Lego, ci ha premiato come miglior azienda al mondo al servizio delle scuole, e con noi c'erano più di altri, più di 50 paesi, insomma, coinvolti, quindi questo è merito non nostro, ma soprattutto è merito delle scuole italiane, che soprattutto negli ultimi anni sono diventate molto recettive. Perché lo dico? Perché questo ci serve un po' da premessa per quello che è Piano Scuola 4.0. Abbiamo diverse novità in arrivo e pensate sviluppate proprio per il PNRR, e mi riferisco non solo a questa misura, ma anche quelle che dovrebbero arrivare, magazzino molto fornito, siamo presenti su MEPA, e così via. Vi ricordo che questo è un servizio, quello dei webinar, che teniamo da tanti anni, da più di sei anni, che in particolare abbiamo intensificato molto a partire dal primo lockdown, e che tutti i nostri webinar sono raccolti nel blog Innovation for Education, quindi sono fruibili anche in differita, sempre in forma totalmente gratuita. Questi sono i riferimenti del nostro ufficio grale, e questa raggera di nomi e numeri e email sorridenti, diciamo, è un punto di riferimento per voi, sono i nostri responsabili sul territorio, sono le persone a cui vi potete rivolgere quando avete bisogno di un affiancamento per progetti, specie per progetti così corposi come questi. Ovviamente siamo presenti in tutta Italia con i nostri reti di installatori, assistenza e formatori, perché abbiamo all'interno del nostro gruppo anche Campus Store Academy, che è ente e formatore accreditato dal Ministero. Ci trovate quindi i nostri corsi su Sofi, eccetera, eccetera, eccetera. Tra le risorse utili vi segnalo sempre il blog Innovation for Education, ci stiamo caricando anche degli articoli specificatamente dedicati agli ambienti di apprendimento innovativi, e poi il sito Campus Store, che è il più grande e-commerce, il più grande sito per le scuole presente in Italia. All'interno trovate tante risorse utili, tra cui le brochure, bandi e finanziamenti, e soprattutto la sezione bandi in cui raccogliamo scadenze, eccetera, eccetera, soprattutto la sezione bandi e finanziamenti, e finanziamenti che all'interno della quale abbiamo suddiviso ci sono i bandi attivi o i bandi recentemente chiusi e ci trovate un po' tutte le risorse che possono essere a supporto. In particolare abbiamo aperto una nuova sezione, che è appunto la sezione piano nazionale di ripresa e resilienza, all'interno della quale andremo a inserire tutte le misure relative a questa linea di investimento molto particolare e in questo momento ci trovate piano scuola 4.0. I bandi attivi ve li riassumo brevemente, sapete che ci sono state varie proroghe, dilazioni, eccetera, eccetera, quindi brancoliamo ancora un po', ma fondamentalmente in questo momento stiamo lavorando molto ancora sull'infanzia, sugli ultimi strascichi, credo, di laboratori green, e c'è qualcosa ancora di stemma, ma soprattutto i nostri sforzi e le nostre azioni, soprattutto nelle prossime settimane, si concentreranno su piano scuola 4.0. Dunque, perché siamo qui? Sono state pubblicate queste sintesi delle istruzioni operative e tra le indicazioni più importanti c'è stata, per fortuna, questo spostamento della data di consegna dei progetti al 28 febbraio, dico per fortuna perché fino a che non è stata comunicata, era teoricamente fissata a dicembre, ma c'erano poche indicazioni a riguardo e la piattaforma non era attiva. Qui trovate le istruzioni operative. Ecco, piccola nota per chi è nuovo ai nostri webinar. Nelle varie slide troverete di norma in alto a destra questo simbolo, il www, che indica praticamente una risorsa, un approfondimento, qualcosa che potete scaricare, sono sempre risorse gratuite messe a vostra disposizione o collegamenti a pagine web, in cui potrete trovare le informazioni a cui ci riferiamo. Qui in particolare potete scaricare le istruzioni operative per procedere al bando, che andiamo tutte a raccogliere in una pagina in modo che voi abbiate un punto di riferimento quando c'è una novità ve la carichiamo lì. Il bando è rivolto incredibilmente a tutte le scuole, nel senso che di norma o bisogna applicare o ci sono misure più indirezzate a un particolare livello di scuola. In questo caso invece sono state coinvolte tutte le scuole statali del primo e del secondo ciclo e a ciascuno è già stato assegnato un certo fondo. Perché? Perché gli obiettivi che si prefigge il piano, che ricordiamoci rientra in un'azione più ampia a livello europeo, sono incredibilmente rivoluzionari e anticipano e promettono di cambiare in qualche modo la faccia della scuola italiana. Il piano è fondamentalmente composto da due azioni, azione 1, ovvero Next Generation Classrooms e azione 2, Next Generation Labs. Le vediamo, so che le avrete già imparate a memoria tutti, però è sempre giusto premettere le cose prima di capirci. Altra cosa, budget, acquisti, possibili e limitazioni, sempre nelle istruzioni operative, sono state date di vincoli alla spesa. Sebbene anche nel webinar che ha tenuto il Ministero dell'Istruzione ieri siano state precisate delle cose che danno molto respiro a questi vincoli e che poi puntualizzeremo insieme. Però di norma è stato detto che il 60% minimo deve essere investito per l'acquisto di dotazioni digitali e poi capiremo insieme cosa significa dotazioni digitali. Il 20% massimo può essere investito per gli arredi. Il 10% al massimo per piccoli interventi, che ne so, ridipingere le pareti dell'aula, sistemare un impianto elettrico che non funziona bene, eccetera, 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 e 10% al massimo per spese tecnico-operative. Arriviamo quindi al dettaglio delle nostre azioni. Allora, l'azione 1 è rivolta a tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, quindi a tutte le scuole questa azione si rivolge. L'ambizione di queste risorse è quella di rivoluzionare completamente le aule, diciamo normali, in cui gli studenti fanno lezioni quotidianamente. Attenzione però che per aula non si deve intendere, qui c'è già una prima precisazione da parte del Ministero, necessariamente l'aula in cui fino a ieri facevate lezione, nel senso che rientrano tra questi ambienti anche aree comuni, laboratori, cioè voglio trasformare in un ambiente d'apprendimento, non per farci il salone di bellezza, ma voglio trasformare in un ambiente d'apprendimento il corridoio della mia scuola. Vale come aula, quindi vale nel computo degli ambienti che dovete andare a trasformare, grazie a questo finanziamento. Quindi capite già la valenza molto ariosa di questa possibilità di spesa che ci viene data. Poi i fondi di che tipo sono, quanti sono? Sono variabili e variano in base al numero di classi presenti nell'istituto. La forbice è piuttosto ampia, quindi non ha senso in questo momento ragionare su cifre standard. Sapete, per chi insomma fa di solito, segue di solito i webinar con noi, che di solito andiamo a ragionare sulla cifra, che ne so, infanzia, c'erano 75 mila euro a disposizione e siamo andati a ragionare su quel budget. In questo caso non è possibile, quindi andremo a prevedere tutta una serie di ragionamenti, diciamo, più piccoli, magari scalabili e poi replicabili all'interno della scuola. Posto che, già vi anticipo qualcosa, non sono una grande fan e mi sento di sconsigliare di replicare sempre la solita formula su tutti gli ambienti senza un po' di spirito critico, ma poi lo vedremo più nel dettaglio. L'obiettivo rude di Azione 1 è quello di cambiare la faccia, scusate se c'è un po' di caos, chiedemi ai colleghi se possono fare un po' di silenzio, l'obiettivo rude è quello di cambiare la faccia agli ambienti in cui di fatto andate a fare lezioni non una volta ogni tanto, ma in cui c'è una certa quotidianità di approccio nelle lezioni. Questo non significa intervenire solo sulle aule tradizionali, ma anche su altri ambienti. Le dotazioni a cui si fa apertamente riferimento per questa azione sono basilari, diciamo, quindi uno schermo digitale, degli strumenti per la videoconferenza come la webcam, le licenze per le videoconferenze, quindi ad esempio Zoom, eccetera, eccetera. Dispositivi per promozione di lettura e scrittura che possono essere dispositivi specifici, ingranditori, software per lo storytelling, set per lo storytelling e così via, o possono essere anche dispositivi personali degli studenti magari arricchiti di una dotazione di contenuti al loro interno. Ecco, questa è una richiesta specifica che è arrivata ed è stata ribadita anche ieri, quella di organizzare all'interno della scuola un po' un proprio catalogo di risorse di base su cui basarsi per poter insomma implementare una didattica appunto volta alla quotidianità. Cioè quello che si vuole è che non venga fatta la cosa straordinaria che si usa una volta all'anno per gli open day, ma che venga stravolta proprio la metodologia giorno per giorno. E poi si insiste molto sul fatto di portare in qualche modo il laboratorio dentro l'aula, quindi di dotarsi di strumenti per l'apprendimento di pensiero computazionale, intelligenza artificiale, robotica educativa e così via all'interno dell'aula che un po' se volete persegue quel percorso che è stato avviato grazie a bandi precedenti, penso ad atelier creativi prima e soprattutto al bando STEM che abbiamo, che ci ha appassionato tanto quest'anno. Per quanto riguarda gli arredi, molti si sono un po' preoccupati per quella misura, diciamo, per quel vincolo che è stato posto sul 20% massimo di arredi. Allora, già ieri è arrivata una chiarificazione rispetto a questo termine, nel senso che tutti quelli che sono arredi tecnologici, penso banalmente al carrello per la ricarica dei Chromebook o al tavolo multifunzione e così via, sono considerati dentro il computo delle tecnologie, non all'interno degli arredi. all'interno degli arredi rientra proprio l'arredo tradizionale, il banale banco, la banale sedia e così via. Posto che viene più e più volte ribadito all'interno di quel bellissimo documento che è Piano Scuola 4.0, che se non avete letto integralmente vi invito a leggere perché è veramente un bel documento scritto da, secondo me, qualcuno che di scuola se ne intende un bel po' e soprattutto ci dà anche tanti spunti di approfondimento, lì all'interno viene detto attenzione che quando ti viene detto di trasformare lo spazio non è che se tu hai già una classe che è stata resa bella dagli ultimi 4, 5, 10 finanziamenti me la devi stravolgere, cioè se hai già dei bei banchi nuovi, delle belle sedie, ti sei preso lo schermo con digital board, non è che mi devi mettere dentro un altro schermo necessariamente o mi devi prendere degli altri banchi, vai ad arricchire anche in forma minima quello spazio che ne so, prendi dei visori, prendi dei kit prima parlavamo appunto per il pensiero computazionale e l'intelligenza artificiale e mi li vai a distribuire all'interno degli spazi dove devi intervenire perché la tua classe è già abbastanza bella, va bene, conta e sono tutte linee di intervento che tu dovrai poi razionalizzare in fase di rendicontazione quando andrai dovrai dimostrare che hai raggiunto quei target perché hai preso degli strumenti che vanno distribuiti all'interno di questi ambienti. Ok, tra gli arredi c'è una certa preferenza ovviamente per le soluzioni mobili riconfigurabili trasformabili a scomparsa perché ovviamente perché il piano insiste molto sul fatto che questo non deve essere semplicemente una mano di bianco si dice in Veneto cioè rendiamo le classi un pochino più belline e continuiamo a fare le cose come le abbiamo fatte fino a ieri. Viene detto diamo la preferenza cioè una grande letteratura oramai di metodi di apprendimento di insegnamento diciamo alternativi il che non significa che abbandoniamo tutto quello che è stato fatto fino ad oggi e abbracciamone di nuovi ma integriamo magari quello che abbiamo fatto fino ad oggi con degli approcci un po' differenti e facciamolo anche grazie a questa opportunità di finanziamento quindi dotiamoci di arredi che ci permettono ad esempio la riconfigurazione di ora in ora del setting dell'aula o che ci permettano di individuare che ne so prima parlavamo del corridoio all'interno di un ambiente più ampio eccetera eccetera varie aree di lavoro in modo che possano essere supportati diversi approcci il debate l'apprendimento collaborativo il peer learning e così via e che possano essere rimodulati ecco e quindi qui ci riferiamo principalmente agli arredi tradizionali per quanto riguarda le tecnologie invece ci sono molti aperti di riferimenti alla didattica ibrida quindi alla possibilità ok siamo tornati in presenza grazie al cielo però abbiamo imparato qualcosa da questo digitale ad esempio che ci aiuta a avere le risorse in cloud che ci aiuta a interagire in digitale e così via cerchiamo di abituarci ad avere questa dimensione digitale anche all'interno della nostra quotidianità in presenza all'interno delle nostre classi quindi dotiamoci di strumenti che ci permettano di farlo si insiste su didattica digitale e on life quindi c'è anche questo riferimento insomma si vede chiaramente un approfondimento importante su floridi e sugli strumenti che servono per dotarsi di questa cosa quindi innanzitutto va fatto il punto sulla scuola e vi viene richiesto già in fase progettuale ci sono già o mancano gli strumenti per fare questa cosa a proposito di questo vi abbiamo messo a disposizione sarà disponibile da domani ve lo mandiamo già con il follow up insomma con gli attestati eccetera un test è un test simpatico poi ne parleremo più diffusamente ma è uno strumento a vostra disposizione gratuitamente per mappare le risorse in essere che avete nella scuola e capire su cosa potreste intervenire lo strumento si chiama campus selfie e in qualche modo una fotografia e fotografa lo stato attuale della digitalizzazione in atto nel vostro istituto in pratica compilate un test alla fine del test c'è anche un simpatico diciamo feedback in qualche modo vi viene detto qual è la vostra personalità a livello tecnologico ma poi soprattutto nel corso del prossimo mese i nostri responsabili prima vi ho indicato i responsabili di zona seguiranno insomma vi invieranno delle risorse gratuite a supporto in base alle risposte che avete dato vi daranno dei suggerimenti rispetto a quello che potreste implementare all'interno del vostro istituto diciamo che è un modo per giocare ma anche per fare una mappatura attenta ovviamente queste informazioni vi verranno mandate gratuitamente potrete decidere di cestinarle di farne quello che vorrete ma credo che siano molto importanti perché sapete che avete degli esperti che in qualche modo andranno a individuare quelle che sono le vostre esigenze e a fornirvi la risposta più adeguata quindi spero che lo apprezzerete ogni tanto penso cosa ci sogniamo quando ci vengono in mente queste cose perché troverete le carte poi con il mio collega appunto che ha ideato tutta la creatività la grafica quando gli ho parlato dell'idea mi ha detto ma le facciamo come le carte dei tarocchi quindi vedete che c'è anche questa gravatura perdonateci se ogni tanto ci divertiamo anche con queste tematiche un pochino più hard diciamo come soluzione appunto principalmente diciamo un ambiente può essere può avere una configurazione di questo tipo e avere quindi tanti strumenti al suo interno tra le tecnologie si parla anche diffusamente di metaverso indicato anche come eduverso oltre ad altri strumenti caratterizzanti per favorire gamification per creare ecosistemi inclusive motivanti molta attenzione viene fatta anche alla tecnologia vista come traino e strumento di inclusione oltre che di motivazione no? semplicemente quindi che consente anche una personalizzazione spinta dell'esperienza d'apprendimento dei vari studenti e soprattutto una personalizzazione del tipo di feedback di valutazione che posso dare per accompagnarli a proposito di apprendimento ibrido c'è questa slide che ringrazio Lenovo perché fa parte insomma di una serie di risorse che loro ci danno periodicamente insomma che sono un po' una mafatura di quello che avviene anche nel mondo a livello di tecnologia digitale che un po' ci fa vedere come quando parlo di apprendimento ibrido cosa intendo intendo fondamentalmente una situazione in presenza anche se io non amo molto la classe schierata però giustamente partono da una situazione in essere abbastanza diffusa dove posso avere uno o due schermi perché in uno dei due schermi magari mi sto collegando con degli studenti che sono a casa piuttosto che con scusate sono usato piuttosto che in modo assolutamente inappropriato mi posso collegare con degli studenti che sono a casa o con degli esperti che sono magari dall'altra parte del mondo e che possono interagire con noi mentre nell'altra lavagna magari vado a proiettare delle slide delle risorse un libro digitale che stiamo utilizzando posso avere parte delle persone che sono a casa e cosa serve per riuscire a costruire questo ecosistema non ci servono esattamente tecnologie da terzo millennio ci servono uno o due schermi appunto in questo caso dove uno dei due schermi può essere la LIM cioè se in un ambiente dove avete messo la digital board avevate la LIM e la volete tenere potete avere la possibilità di avere questi due strumenti che vengono utilizzati tra loro dispositivi personali degli studenti che possono anche scegliere di far portare loro perché ci sono tante scuole che iniziano ad adottare questo sistema del far acquistare magari il dispositivo personale agli studenti all'inizio dell'anno scolastico poi il dispositivo rimane agli studenti magari andando un po' a risparmio sulla dotazione di libri che si richiede di acquisire serve senza ombra di dubbio una webcam con poi delle soluzioni un po' intelligenti cui loro nella fattispecie presentano cioè scaldeggiano ThinkSmart a cui puoi associare una piattaforma di videoconferenza che può essere Teams che può essere Zoom che può essere Google Meet a seconda di quelle che sono poi le preferenze dell'ecosistema dell'infrastruttura digitale che la scuola vuole darsi io personalmente consiglio sempre se decido di abbracciare insomma un ecosistema di cercare di tenere le più cose possibili all'interno di quell'ecosistema perché diventa poi più semplice far parlare tutti gli applicativi tra di loro cosa vi metteremo a disposizione per le Next Generation Classroom a partire da domani trovate sul nostro sito una serie di progetti già precompilati quindi il progetto che dovete caricare adesso che non è un elenco della spesa è un progetto discorsivo poi lo vedremo più nel dettaglio nelle prossime soluzioni nelle prossime settimane scusate troverete soluzioni una soluzione di base per aula fissa delle soluzioni smart sulle aule mobili e soluzioni chiavi in mano per le formule ibride cioè che sono fondamentalmente le tre declinazioni che vi vengono chieste all'interno di Next Generation Classroom cioè cosa vuoi fare vuoi settare la tua scuola perché continui o insomma perché torni non lo so ha un sistema per aule fisse ha un sistema invece che di fatto richiama al DADA quindi ad ambienti di apprendimento dedicati all'interno della scuola in cui sono gli studenti a ruotare tra le aule anziché i docenti oppure vuoi trovare una formula di didattica ibrida noi tra l'altro ve ne proporremo una molto molto forte in uno dei prossimi incontri bellissima per quanto dico bellissima non per un vanto nostro perché non è una nostra idea ma è un'idea di un dirigente scolastico molto molto che stimo molto per quanto riguarda l'azione 2 invece passiamo ai laboratori l'azione 2 riferisce dall'azione 1 innanzitutto per il pubblico qui si riferisce in quanto si riferisce a tutte le scuole se si rivolge scusate a tutte le scuole secondarie di secondo grado l'obiettivo è quello di realizzare dei laboratori per le professioni digitali del futuro in questo caso la cifra data ad ogni scuola è standard quindi mentre con le classroom abbiamo un vantaglio molto ampio qui abbiamo tutti i licei in teoria tutti i licei dovrebbero aver ricevuto 124 mila euro mentre tutti gli istituti tecnici dovrebbero aver ricevuto 164 mila euro per allestire questi laboratori che si vanno a sommare alla somma che questi istituti hanno già ricevuto per azione 1 quindi solo le scuole secondarie di secondo grado troveranno due azioni in piattaforma da trivare quindi due progetti da consegnare mentre le scuole diciamo primarie secondarie di primo grado avranno solo accesso ad azione 1 cosa si intende per laboratori del futuro a seconda degli indirizzi specifici di studio delle diverse scuole che quindi avranno autonomia di scelta rispetto a questo nei laboratori che si andranno ad allestire è fortemente caldeggiato un approccio innovativo e che tenga conto del presente in cui viviamo a seconda delle scelte della scuola si potranno quindi apprendere diverse tematiche sempre con un approccio trasversale allora le tematiche erano state un pochino evidenziate già nel piano nel piano appunto pubblicati inizialmente ora diciamo è un pochino più evidente come si vanno a configurare cioè non vanno pensati solo dei laboratori da identificare sulla base della tecnologia ma anche sulla base della vocazione cioè dello spirito che andrà a caratterizzarli mi spiego meglio i laboratori sono concepiti in chiave multidisciplinare multidimensionale scusate immaginateli come una matrice dove su le ascisse tra virgolette mi vado a scusate a impostare il settore o l'ambito tecnologico su cui voglio sviluppare il laboratorio che può essere robotica making creazione di prodotti e servizi digitali o così via mentre sull'ambito sulle ordinate vado a indicare il settore economico di vocazione tematica a cui questi laboratori saranno afferenti e questo può essere il settore agroalimentare ICT trasporti logistica e così via per cui devo in qualche modo incrociare questi due aspetti quindi facciamo un esempio fare un laboratorio di robotica in cui si vadano ad approfondire trasporti e logistica ad esempio quindi queste sono le due dimensioni che vi vengono richieste e se vedete già qui c'è grandissima apertura innanzitutto l'introduzione di tematiche sia a livello tecnologico che a livello di settori economici che spesso vengono escluse e che mostrano una chiara direzione cioè che era già stata annunciata preparare i ragazzi non alla scuola del futuro sleghiamoci da questa diciamo retorica del futuro a tutti i costi prepariamo i ragazzi alla scuola del presente cioè li prepariamo a quello che sta già avvenendo all'interno degli uffici all'interno delle fabbriche all'interno del mondo in cui andranno banalmente a vivere anche solo come cittadini quindi è una richiesta di aggiornamento all'oggi e soprattutto un aggiornamento all'andare a reperire quelle che sono delle risorse delle competenze che dovranno inevitabilmente continuare ad aggiornare e proprio questo cogliere la velocità del cambiamento che ormai ha improntato la realtà che caratterizza questa forma di finanziamento non solo in Italia ma che è proprio voluta fortemente a livello europeo qui vi ho banalmente riportato le indicazioni diciamo degli ambiti tecnologici su cui si potrà lavorare per costruire questi progetti come Campus Store vi proporremo delle soluzioni tra virgolette esempio di ispirazione per ciascuno di questi ambiti tecnologici posto che davvero la possibilità di spaziare è grande e quindi avendo tante soluzioni eccetera e un po' di esperienza devo dire nei laboratori vi affiancheremo dei professionisti che potranno consigliarvi anche in base a quelle che sono le esigenze dell'istituto del luogo in cui nasce l'istituto perché è chiaro che un po' bisogna ispirarsi anche a quello che è l'ambiente economico lavorativo industriale in cui si sviluppa la scuola spesso e che tengono anche un po' conto della storia della scuola insomma perché non è un mettiamo un punto su tutto quello che si è fatto prima come vi dicevo ma è proprio un arricchire l'esperienza vediamo le date da tenere a mente allora il 28 febbraio è la data più stringente ed è quella su cui andremo a lavorare appunto in questi incontri ed è la data ultima per presentare e inserire il progetto in piattaforma poi da marzo a giugno bisogna individuare diciamo i soggetti per i soggetti affidatari insomma per procedere poi con gli acquisti da giugno 2023 a giugno 2024 si dovrà invece lavorare per allestire effettivamente questi ambienti per quindi installare i materiali e metterli in funzione la data ultima poi per la rendicontazione dovrebbe essere il 31 dicembre 2024 in modo da poter attivare mettere pienamente in operatività questi nuovi fantastici ambienti perché io sono esaltatissima da questa possibilità nell'anno scolastico 2024 2025 questa è una sorta di cronoprogramma abbiamo identificato una fase 0 in cui c'è stato il lancio del piano scuola 4.0 e alcuni approfondimenti sono usciti all'interno di piano scuola 4.0 stesso ci sono diversi link diversi inviti ad andare a approfondire proprio delle risorse noi stessi ve ne avevamo proposte alcune webinar playlist eccetera ora siamo in quella che noi abbiamo identificato come fase 1 che è quella della presentazione dei progetti e vedete la mappa che vi dice noi siamo qui e poi da qui in avanti avremo altre tre fasi fondamentalmente che abbiamo appena ripercorso per ciascuna di queste fasi noi vi andremo a creare le risorse fondamentali per riuscire a rispondere al meglio per saranno disponibili sempre gratuitamente perché le mettiamo sempre a disposizione gratuitamente per riuscire ad affrontare al meglio questa sfida che ci rendiamo conto essere una grande opportunità ma anche porta con sede le complessità innanzitutto però concentriamoci sulla fase 1 abbiamo visto che avrete una serie di webinar ricorrenti ci vediamo ogni due settimane ed adesso la consegna del progetto una to do list quindi un riassunto con le cose che dovete fare entro il 28 febbraio tre progetti pronti che potrete andarvi a scaricare da domani sulla pagina dedicata sul sito Campus Store dove banalmente vi indicheremo qui devi segnare questa cosa qui devi scrivere questo e vi daremo anche un esempio proprio di scrittura per i vari campi e poi il test il nostro Campus Selfie per monitorare il livello di digitalizzazione presente nell'istituto quindi lavoreremo insieme su ogni fase ma approfondendo la step by step cerchiamo di non anticipare i passi esempio non lavorerei oggi su un Excel di cosa andiamo a comprare perché mi sembra primordiale per non dire avventato cioè si rischia di dire ok dai dobbiamo mettere digital board in tutte le classi 10 computer e un tavolo via replichiamoli in tutte le classi ma no anche perché vi potete trovare classi scusate aule che hanno situazioni completamente diverse in essere potete se siete una scuola con più plessi avere plessi che hanno una storia una situazione differente su cui siete andate a lavorare in modo differente e soprattutto non vi aprite e non vi date la possibilità di offrire spazi diversi di condivisione all'interno dell'istituto occasioni diverse datemi anche la chance di dire occasioni di meraviglia per i ragazzi per fargli vedere qualcosa di nuovo qualcosa di diverso non banalizziamola questa opportunità piuttosto appunto dotatevi di qualcosa in meno in tutte le classi e poi andate a utilizzare quell'avanzo per fare magari un ambiente uno di quegli ambienti su cui andrete a lavorare un pochino più corposo un pochino più forte insomma che vi permetta anche magari un ambiente che vi permetta una rotazione delle classi parlavamo prima del corridoio di un laboratorio specifico eccetera eccetera e quindi vediamo le risorse specifiche per piano scuola 4.0 all'interno della sezione bandi e finanziamenti del sito Campus Store trovate la pagina dedicata all'interno della quale vedete già tutta una serie di informazioni i documenti del ministero li abbiamo riportati tutti lì in modo che li abbiate tutti in un unico in un unico ambiente abbiamo i capitolati di esempio ci saranno i capitolati di esempio oggi ci sono gli esempi di progetto che dovete consegnare e così via troverete il link per fare il test sulla digitalizzazione del vostro istituto eccetera eccetera poi abbiamo la playlist con tutta una serie di contributi che vanno da un minuto a cinque minuti dipende dal video che approfondiscono verticalmente tutta una serie di tematiche banalmente abbiamo pochi spazi all'interno della scuola come possiamo fare per ripensarli qual è il rapporto tra dentro e fuori che posso andare a istituire se voglio fare aule fisse posso farle comunque in chiave innovativa e così via e quindi abbiamo delle risposte non date da noi ma da esperti ben più autorevoli del settore trovate ovviamente la playlist cliccando su questa slide quando vi verrà inviata ovvero domani poi trovate una serie di articoli di approfondimento ne abbiamo pubblicato uno questa settimana su un ambiente di apprendimento molto particolare che non sono presentati come modelli da seguire quanto come fonti di ispirazione per trarre magari qualche suggerimento da cui partire tutto ciò vi verrà appunto dato passo passo poi abbiamo un gruppo facebook molto 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 nutrito devo dire che cresce continuamente e si è anche rivivacizzato dopo la pubblicazione di istruzioni operative diciamo ed è dedicato a piano scuola 4.0 si chiama proprio piano scuola 4.0 un gruppo dedicato ad insegnanti professionisti del mondo della scuola vi consiglio di seguirlo vediamo qualche precisazione e puntualizzazione allora innanzitutto se non l'avete ancora letto leggete piano scuola 4.0 perché è un documento molto bello non solo non solo cioè molto bello a prescindere insomma che è fuori edo di una grande possibilità di approfondimento insomma per chi si occupa del mondo della scuola ma soprattutto è solo una delle manifestazioni che avrà il PNRR il piano prevederà altre misure per cui continuate a seguire insomma gli aggiornamenti perché potrebbero esserci delle novità quindi quando dite ogni tanto arriva non so questa cifra non mi basta per tutti i miei laboratori o questa cifra non include una formazione corposa io avrei bisogno di lavorare sulla formazione eccetera eccetera questo tipo di risorse avranno teoricamente delle misure dedicate per cui per ora concentriamoci su ciò che è possibile fare con piano scuola 4.0 che credo sia comunque tantissimo ci dà davvero una bella boccata d'ossigeno insomma è un'occasione di crescita che vi permette soprattutto è un'occasione di pensiero sulla scuola io credo che grandi e cose molto intelligenti che ho visto in certe scuole sono state fatte con pochissimo in termini di risorse ma possono essere replicate adesso magari consolidate e permette di andare a costruire non un progetto ex novo io credo perché piano scuola 4.0 oggettivamente si innesta su delle promesse molto forti abbiamo visto negli ultimi anni una serie di azioni di investimento davvero senza uguali tra PON e PNSD si sono assolutamente moltiplicate per cui solo per citarne alcune dagli atelier creativi che abbiamo avuto a suo tempo ormai c'è stato solo nell'ultimo paio d'anni digital board il bando green quindi siamo riusciti a mettere a posto anche i nostri giardini se possibile spazi e strumenti per l'apprendimento delle strem abbiamo avuto i decreti sostegni quindi magari avete tanti dispositivi dentro la scuola personali ad uso degli studenti non dovete andare a prendere degli altri non lo so magari sono stati trattati male invece avete bisogno di rinnovare il parco macchine però il punto è non pensate che tutto quello che c'è stato prima vada cancellato anzi fate una bella mappatura di quello che avete appunto e andate semplicemente ad aggiungere ed integrare perché piano scuola 4.0 deve proprio appoggiare su queste premesse quindi cerchiamo di robustire progetti in essere cerchiamo di dare slancio e concretezza a progetti che magari voi per primi avete iniziato a implementare nelle vostre scuole e soffermiamoci su quelli che sono proprio gli unici due vincoli che sono tutto sommato abbastanza limitati due vincoli fondamentali di piano scuola 4.0 sono i target e le milestone i target sono obiettivi minimi che vi si chiede di raggiungere il che significa che se trovate all'interno della piattaforma un target diciamo un target 10 e di ambienti ne volete fare 11 parlo banalmente non c'è un'alimentazione in questo senso non ne potete fare 9 ecco perché i target delle singole scuole devono essere raggiunti per raggiungere i target che come paese Italia come scuola italiana dobbiamo raggiungere e che sono richiesti dall'Europa cioè l'Europa ha detto io vi do questi fondi ma devono essere fatte delle cose in cambio una di queste è rivoluzione cioè non devono essere dei fondi per fare 4 ambienti di tutta Italia bellissimi non interessa a nessuno vogliamo portare un po' di modernità un po' di aggiornamento in tutte le scuole nelle scuole di provincia nelle scuole di montagna scuole che magari non hanno mai lavorato molto su queste tecnologie dappertutto vogliamo disseminare un po' quindi questi target sono l'obiettivo che vi viene dato e che poi dovranno essere diciamo dimostrati in fase di rendicontazione poi ci sono delle milestone che sono di fatto delle tempistiche entro le quali le azioni devono essere realizzate abbiamo poi un'unica piattaforma per tutto futura che in un'ottica di massima semplificazione credo che sia una grande e ottima notizia insomma all'interno della quale troverete e trovate già appunto 4 sezioni e tutte le varie informazioni o strumenti di cui avete bisogno per appunto consegnare i vari progetti attenzione poi che la verifica di tempi obiettivi dovrebbe essere molto puntuale ma non soffermatevi solo sulla quantità anche sulla qualità cioè dovrete rendere conto di come ciò che avrete comprato si innesta in un'ottica non solo di acquisto di materiale moltiplicato ma anche di come quello che avete deciso di acquisire va in qualche modo a modificare o a supportare anche metodologie d'apprendimento e di didattica diciamo diversificate risorse campus store a vostra disposizione andrò velocissima del campus selfie avete già parlato qui vedete delle carte che vi possono venire fuori esempi di progetto poi troverete appunto i progetti ad esempio a partire da domani quindi qui vedete i master che vi vengono dati in piattaforma per ognuno di questi riquadri siamo andati ad identificare proprio anche degli esempi di testo in particolare per azione 1 abbiamo preparato tre progetti d'esempio uno per aule fisse uno per ambienti d'apprendimento dedicati per disciplina uno per apprendimento ibrido e quindi andremo a segnare nel troverete dove c'è diciamo da compilare un esempio di testo da inserire dove c'è da selezionare vi abbiamo dato qualche indicazione sulla base di cosa dovreste selezionare una cosa o un'altra qui vedete appunto tutte le aree in cui siamo andati a lavorare questo appunto per quanto riguarda azione 1 per quanto riguarda azione 2 stessa cosa siamo andati a fare un esempio in questo caso abbiamo fatto solo un progetto d'esempio perché se avessimo dovuto tener conto di tutte le possibilità avremmo scritto la divina commedia però un progetto d'esempio giusto per farvi capire come potrebbe essere presentato ecco il il tutto in modo diciamo coerente con quanto viene chiesto in questa fase preliminare che è tutto sommato davvero semplice e voglio rassicurarvi in questo senso quali saranno i servizi oltre ai webinar dei kit tematici per i diversi interventi progetto e consulenza e affiancamento da parte delle persone presenti sul territorio e quindi supporto da parte dei referenti di zona compresi nella giudicazione con noi ci sono sempre il trasporto e l'installazione poi ovviamente vanno visti e un annuncio in nostri arredi arrivano quasi sempre già montati che di solito è una cosa tutt'altro che banale tra le altre cose che mi viene da dirvi come servizi ci saranno anche tutta una serie di cose diciamo quando parlo di qua vi ho detto kit tematici per i diversi interventi non vi parlo di tecnologia morta e qui ci tengo un pochino a darvelo come consiglio diffidate da quelle soluzioni che sono che ne so compro dei visori che ho trovato in Corea le ho visti dal figlio di mio cugino ma non hanno contenuti localizzati non hanno contenuti didattici all'uno interno eccetera eccetera cosa viene fatta di queste cose stanno lì come fantastici soprammobili per i prossimi dieci anni a prendere polvere puntate piuttosto su delle soluzioni un pochino più strutturate io ho usato miri come esempio ma se ne possono parlare se ne possono usare tanti altri questa è la nostra aula immersiva è un ambiente davvero magico ma perché è magico perché non si tratta di mettere insieme due monitor anche perché non è fatta con i monitor noi veniamo proprio se ci date un ambiente della scuola a prendervi questo ambiente che può essere anche piuttosto piccolo e a rendervelo interamente immersivo ma soprattutto ci mettiamo all'interno dei contenuti contenuti che non ci siamo inventati noi dall'oggi al domani ma che abbiamo sviluppato grazie a Giunti Scuola che li ha sviluppati grazie ai propri diciamo autori e ai libri di testo che già vengono dati per cui ci sarà anche una connessione tra libro di testo che cartaceo digitale che uno ha in mano e quanto può essere fatto all'interno dell'aula mini proprio per dargli della tecnologia che non stia lì a marcire per dei secoli ma che vogliamo venga usata ecco puntate su queste soluzioni in cui mi raccomando ci sia oltre alle tecnologie oltre al digitale un po' di contenuto un po' di super cioè prima di decidere cosa comprare pensate a cosa ci farete voi con questi strumenti perché dire compro quella cosa bellissima e poi lasciarla lì è un po' uno spreco di risorse volete poi vedere queste cose di persona vi aspetto a Didacta 2023 dall'8 al 10 marzo a Firenze quest'anno ci mettono in punizione nel sottoscala cioè saremo nel piano interrato e quindi dobbiamo renderlo il piano più divertente del mondo lo faremo ci proviamo io vi aspetto però perché davvero ci saranno tante 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 novità da vedere provare toccare con mano potrete parlare con i nostri responsabili del territorio ma anche con i nostri esperti di prodotto un'occasione unica per trovarli tutti insieme vi ricordo i webinar e adesso vi direi scusate non so dove mi sono persa che ci aspetta il cosa fare adesso per decidere cosa fare adesso non ve lo dico io chiedo scusa Fabrizio se mi sono dilungata ma come sempre parto a parlare non mi fermo più chiederei a Fabrizio Costantini appunto direttore dei servizi generali amministrativi dell'ITISVOLT di Pescara di accompagnarci in questo viaggio buongiorno Fabrizio buonasera buonasera a tutti buonasera si va là si è fatta notte ormai allora ti assegno il ruolo adesso dovresti riuscire a condividere anche il tuo schermo ok quindi mostra il schermo ci siamo fantastico ci siamo? ci siamo ok benissimo dunque partiamo con questo primo diciamo incontro questo primo step che riguarda sostanzialmente un accompagnamento passo passo su cosa va fatto per presentare il il progetto perché al momento tutto ciò che possiamo fare è semplicemente questo siamo ancora in una fase preliminare e quindi lascerei ad altre occasioni l'approfondimento di quelle che sono le tematiche inerenti l'aspetto amministrativo l'aspetto contabile l'aspetto procedurale in sé per sé e poi ancora più avanti l'aspetto relativo alla rendicontazione così come ha detto prima molto bene Elisa ci troviamo di fronte ad un passaggio epocale e quindi a dei progetti che rappresentano una novità per tutti me per primo e quindi diciamo che abbiamo pensato di accompagnarvi in questa prima in questo primo webinar in quello che bisogna fare sostanzialmente per poter presentare un progetto quindi per poter partire posto che le somme che ci sono state ormai rese note che ci sono state assegnate sono appunto note a tutti e quindi non dobbiamo discutere sostanzialmente di questo quindi abbiamo delle somme già fisse determinate a monte per quanto concerne i next generation labs che riguardano però soltanto le scuole secondarie di secondo grado e discorso invece a parte va fatto per le next generation classroom dove ogni scuola ha ricevuto un importo differenziato e per poter sostanzialmente presentare questi progetti non possiamo prescindere da quello che è il cronoprogramma che il ministero ha assegnato a tutte le scuole e quindi sostanzialmente a febbraio del 2023 procederemo quindi entro il 28 febbraio 2023 dovremo presentare il progetto e sottoscrivere l'accordo di concessione per il finanziamento nonché formalizzare l'acquisizione del codice CUP che sicuramente chiedo scusa se sarò ripetitivo o se dirò delle banalità ma appunto abbiamo preferito questo approccio veramente consentitemi il termine minimal per poter sostanzialmente offrire a tutti la possibilità di avere contezza e di sostanzialmente poter presentare un progetto quindi il CUP io parto dal presupposto che tutti sappiano che cosa sia un CUP comunque si chiama codice unico di progetto è un codice che identifica sostanzialmente un progetto che è stato finanziato con fondi di derivazione comunitaria o comunque fondi di derivazione statale e quindi è un codice che viene acquisito attraverso una piattaforma che è la piattaforma messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per facilitarci il compito posto che questo CUP non è difficile assolutamente da prendere poi insomma vedremo anche un esempio magari al volo di come prendere un CUP però per facilitarci il compito hanno creato dei templates cioè hanno creato sostanzialmente dei format che sono precompilati all'interno dei quali è sufficiente aggiungere soltanto quelle che sono le indicazioni che caratterizzano ogni singola istituzione scolastica come ad esempio l'importo del finanziamento nel caso delle Next Generation Classroom presentato il progetto contestualmente quindi l'ultimo step di presentazione del progetto consiste nella sottoscrizione dell'accordo di concessione accordo di concessione che è un atto assolutamente imprescindibile senza il quale sostanzialmente il progetto non verrebbe finanziato ed è un accordo un documento all'interno del quale vengono riepilogati quelli che sono gli obblighi di entrambe le parti quindi quelli che sono gli obblighi delle scuole e quelli che sono gli obblighi del ministero dall'altra parte tra gli obblighi poi lo vedremo questo nel dettaglio nel corso dei prossimi incontri vi dico velocemente c'è per esempio il rispetto di quelli che sono i principi cardine di tutti i progetti PNRR ad esempio ne avrete sicuramente sentito parlare ogni progetto PNRR deve non arrecare un danno significativo all'ambiente quindi dovremmo fare dovremmo osservare ulteriori adempimenti per far sì per controllare che questo progetto da noi realizzato non arrechi un danno significativo all'ambiente come si fa? ci sono delle checklist che sono state messe a disposizione dal ministero dell'economia e delle finanze sono contenute all'interno di una circolare la circolare numero 30 del 2022 della ragioneria generale dello Stato e sostanzialmente ci dicono che cosa dobbiamo controllare faccio un esempio i prodotti acquistati devono essere devono avere ad esempio un marchio ecologico di tipo 1 quindi le aziende che utilizziamo devono essere ad esempio certificate in base alla normativa europea ISO 14001 ci sono sostanzialmente dei paletti che loro inseriscono e che noi di cui dobbiamo tener conto quando decidiamo di acquistare quindi quando formalizziamo un ordine di acquisto quindi non possiamo sostanzialmente acquistare ciò che ci pare ma dobbiamo far attenzione ad alcune ad alcuni particolari un altro dei principi molto importanti nuovo che non sempre noi abbiamo diciamo rispettato se non ultimamente nell'ambito dei progetti PON è il rispetto del divieto del doppio finanziamento ed è per questo motivo anche che ci chiedono di prendere di acquisire contestualmente alla presentazione del progetto il codice CUP che dovrà poi essere obbligatoriamente riportato su tutta la documentazione progettuale e entro febbraio 2023 ma questo la vedo un po' difficile perché non so se avremo i decreti ufficiali in tempo utile dovremmo assumere in bilancio il finanziamento quindi una volta che ci restituiranno i decreti sottoscritti dalla Corte dei Conti dovremo anche registrare l'accertamento di entrata in bilancio e quindi da una parte come sappiamo sempre c'è l'entrata dall'altra parte ci sarà l'uscita nelle spese e nelle linee guida ci dicono come effettuare questa assunzione in bilancio quindi dove andare a imputare la voce di entrata quindi nella voce 2-3 nello specifico mentre ci dicono che nelle uscite dobbiamo andare a creare un aggregato A01 e poi creare un A01-02 e poi c'è un terzo livello all'interno del quale andremo a riportare quelli che sono gli estremi dell'attività del progetto con il codice CUP anche all'interno del titolo del progetto A giugno 2023 poi avverrà l'individuazione dei soggetti affidatari quindi entro giugno 2023 noi dovremmo individuare quelli che saranno i soggetti affidatari di forniture e servizi sempre tenendo conto di quelle che sono ovviamente ormai norme abbastanza note e cioè il rispetto del codice dei contratti quindi il decreto legislativo 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni linee guida dell'anac eccetera eccetera ma tutta questa parte verrà trattata in maniera approfondita più avanti poi entro giugno 2024 devono essere realizzati questi ambienti innovativi di apprendimento e i laboratori per le professioni digitali del futuro deve essere effettuato il collaudo di tutto ciò che abbiamo acquistato di tutte le attrezzature e di tutti i dispositivi acquisiti nell'anno scolastico 2024 2025 ci dovrebbe essere l'entrata in funzione e quindi l'utilizzo a pieno regime di questi nuovi laboratori e di queste nuove aule che abbiamo realizzato quindi quali sono in breve gli adempimenti che noi dobbiamo porre in essere in questa fase cioè in questa fase preventiva e sottolineo preventiva perché il termine del 28 febbraio può sembrare nel tempo abbastanza lontano ma dobbiamo giocare d'anticipo perché a monte del progetto che andremo ad inserire all'interno della piattaforma che rappresenta un mero adempimento tecnico si tratta sostanzialmente di passaggi tecnici passaggi formali c'è bisogno di che cosa? C'è bisogno di un lavoro di preparazione e quindi innanzitutto dobbiamo trattandosi appunto di fondi di derivazione comunitaria è necessario sulla base di quanto stabilito sancito dal nostro regolamento di contabilità quindi il decreto interministeriale 129 del 2018 è obbligatoria e dovuta e dovuto il passaggio in consiglio di istituto quindi c'è la necessità di acquisire la delibera del consiglio di istituto con la quale sostanzialmente questo organo ci autorizza o meglio autorizza il dirigente scolastico a partecipare al progetto non è un passaggio diciamo da prendere sotto gamba perché così come avviene nei progetti PON la delibera del consiglio di istituto e quella del collegio docenti devono essere poi inseriti nel portale quindi dovranno essere caricati in fase successiva quindi se poi mancano queste delibere è un problema quindi il primo passaggio assolutamente dovuto sono e la delibera del consiglio di istituto a cui deve ovviamente seguire o se volete questa è una scelta del tutto interna ad ogni singola istituzione scolastica quindi deve seguire o può anche precedere la delibera del collegio docenti per inserire questi progetti nel caso degli istituti comprensivi il solo progetto next generation classroom all'interno del PTOF un altro passaggio importante fondamentale è quello della composizione del gruppo di progettazione gruppo di progettazione che il dirigente scolastico così come riportato sul piano scuola 4.0 costituisce con la collaborazione dell'animatore digitale del team per l'innovazione e con le funzioni strumentali del gruppo di innovazione oltre queste figure che secondo me ne dovrebbero far parte di diritto possono farne parte il direttore dei servizi generali amministrativi ma anche i rappresentanti quindi qualche studente qualche genitore rappresentanti degli enti locali enti del terzo settore eccetera eccetera cioè loro sostanzialmente con questi fondi PNRR una delle linee direttrici del PNRR e almeno in fase di progettazione ma per quanto concerne i next generation labs anche successivamente quindi in fase di utilizzo loro cioè mi riferisco ovviamente all'autorità di missione PNRR del ministero pongono l'accento sulla partecipazione la più ampia partecipazione di tutta la comunità scolastica e anche di quelli che sono gli enti locali enti del terzo settore che possono sostanzialmente dare un loro apporto fattivo in fase di progettazione e in fase poi di utilizzo dei laboratori stessi il gruppo di progettazione così dicono le linee guida quindi piano scuola 4.0 deve darsi poi delle modalità operative quindi delle indicazioni su come intende sostanzialmente procedere un'altra fase molto importante che va fatta prima appunto di presentare il progetto è quella della ricognizione degli spazi e delle strumentazioni esistenti quindi in ogni scuola questo gruppo di progettazione dovrebbe anche procedere ad una ricognizione di ciò che è già esistente appunto per rendersi conto di ciò che si intende migliorare perché come diceva prima Lisa non è detto che tutto quello che c'è vada sostituito ma si può migliorare la strumentazione a disposizione quindi si può o acquistare quindi implementare la dotazione tecnologica o andare a migliorare quindi modificare quella già esistente o fare tutte e due che secondo me è la cosa più logica e la cosa migliore quindi fatti questi passaggi compiuti questi passaggi si può arrivare ad una progettazione preventiva che ci consentirà poi di avere un'idea precisa di ciò che si intende realizzare e arrivare anche ad un budget stimato perché naturalmente noi per poter presentare il progetto e quindi per poter rimanere all'interno di quelli che sono i massimali di spesa del progetto dovremmo avere già in fase di presentazione dello stesso un'idea di costo di quelle che sono le attrezzature e dotazioni tecnologiche di cui la scuola software arredi piccoli adettamenti edilizi tutto ciò insomma che possiamo andare ad inserire in fase progettuale noi dovremmo già averlo ben presente prima quindi formalizzarlo su carta e poi trascrivere il tutto all'interno della piattaforma dell'acquisizione del cup ne abbiamo già parlato prima per quanto concerne i cup vi dicevo sono stati creati due diversi templates che possono essere utilizzati che poi ho riportato nelle slides possiamo in questa fase partire con le azioni preliminari per quanto concerne la pubblicità dei progetti perché questo è così come avviene stiamo già attuando per i progetti PON ovviamente si pone molto l'accento anche sulla pubblicità cioè sul rendere noto che la scuola sta mettendo in atto e che realizzerà queste azioni con fondi di derivazione comunitaria nello specifico fondi del PNRR all'interno delle linee guida ci dicono qual è il contenuto minimo che deve sostanzialmente essere presente in ogni azione di pubblicità quindi in questa fase io direi che si potrebbe intanto creare uno spazio ad hoc sul sito web dell'istituzione scolastica riservata ai fondi del PNRR e all'interno di questa sezione andare poi step by step a caricare quelle che saranno quelli che saranno tutti gli atti se vogliamo collegati alle singole azioni progettuali quali sono gli elementi minimi che devono comparire all'interno della pubblicità sicuramente c'è il logo dell'Unione Europea sicuramente c'è il logo del Ministero dell'Istruzione e del Merito sicuramente ci sarà l'indicazione Italia per il domani c'è un diciamo un ulteriore un ulteriore loghetto da inserire se un attimo sospendo la presentazione e prendiamo mi ero preparato dunque all'interno delle linee guida c'è scritto sostanzialmente tutto per quanto concerne l'azione delle pubblicità ecco ogni attività di informazione e comunicazione dovrà prevedere la presenza dell'emblema dell'Unione Europea del logo istituzionale del Ministero competente e del logo Italia domani l'emblema UE deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi e deve riportare la frase finanziata dall'Unione Europea Next Generation EU l'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi marchi o testi quindi già qui troviamo delle indicazioni ben precise su quello che è il contenuto minimo delle azioni di pubblicità una volta fatti questi passaggi l'ultimo step è quello dell'inserimento del progetto all'interno della piattaforma bene nelle slide che vi metteremo a disposizione ce ce ne sono diverse di cui ha già parlato Lisa quindi io sostanzialmente eviterei adesso di andare a ripetere delle cose che sono state già dette comunque troverete per una più facile comprensione anche come ausilio sostanzialmente alla presentazione dei progetti anche una panoramica di che cos'è il progetto next generation classroom e che cos'è invece il next generation labs quindi sappiamo che l'obiettivo minimo della next generation classroom è andare a trasformare almeno la metà in digitali diciamo almeno la metà delle classi esistenti e questo è un dato che noi ritroveremo già presente all'interno della piattaforma di progettazione mentre per quanto concerne i next generation labs dobbiamo andare a realizzare almeno un laboratorio per le nuove professioni digitali ovviamente il contenuto e anche le ricadute didattiche dei due progetti sono diverse per esempio e questo diciamo riguarda il progetto next generation labs cosa vi dicevo prima il coinvolgimento degli enti locali degli enti del terzo settore anche di aziende locali è molto più forte in questa azione perché perché i next generation labs questo è scritto all'interno del piano scuola 4.0 4.0 non lo dico io quindi questo è un documento come diceva Lisa dal quale secondo me non potete prescindere in quanto va analizzato nel dettaglio perché vi aiuta a capire a comprendere meglio di che cosa stiamo parlando all'interno del piano scuola 4.0 c'è scritto ad esempio che i next generation labs devono essere utilizzati anche per andare ad integrare se vogliamo potenziare le azioni le attività formative che ricadono all'interno della PCTO cioè la vecchia alternanza scuola lavoro che adesso si chiama percorsi e competenze trasversali per l'orientamento come un'altra diciamo un altro utilizzo un'altra implementazione della che possiamo prendere per i next generation labs è quella relativa alla curvatura dei curriculum perché anche questo è riportato all'interno del piano scuola 4.0 creare un laboratorio per le professioni digitali può essere poi può risultare spendibile per curvare il curriculum nell'ambito del margine di autonomia del 20% che ogni scuola ha e quindi se noi abbiamo realizzato un faccio un esempio un next generation lab che parla di incentrato sull'astronomia ad esempio possiamo poi curvare il curriculum prevedendo l'utilizzo di questo laboratorio quindi è diciamo un qualcosa di molto importante quindi non è soltanto la realizzazione di un nuovo ambiente di apprendimento ma va diciamo analizzato e tenuto ben presente ciò che di questi nuovi ambienti poi la scuola intenderà farne quindi è tutto un discorso collegato che va analizzato prima di presentare il progetto ecco perché bisogna analizzare bisogna studiare a fondo e comprendere il piano scuola 4.0 quindi queste slides qui le possiamo anche diciamo saltare tenete presente che all'interno del piano scuola 4.0 ci sono due sezioni che ci aiuteranno alla compilazione del progetto e sono la sezione 2.2 del piano o il paragrafo se preferite 2.2 del piano scuola 4.0 per quanto concerne le next generation classroom e la sezione 3.2 del piano scuola 4.0 per quanto concerne invece i next generation labs quindi abbiamo visto prima che così come ha detto lisa che le next generation classroom complessivamente in ambito nazionale il target è quello di andare a realizzare oltre 100.000 aule che saranno dovranno essere trasformate in ambienti innovativi di apprendimento che vedano al centro studentesse e studenti che contengano degli spazi adatti alle pedagogie innovative e che vengano utilizzati per la valorizzazione della leadership pedagogica dei docenti quindi questi ambienti saranno utilizzati per favorire gli apprendimenti attivi e collaborativi attraverso una didattica personalizzata per favorire relazioni motivazioni benessere emotivo il peer learning il problem solving e la coprogettazione e per consolidare una serie di abilità tra le quali le abilità pratiche e le abilità fisiche le dotazioni ve le ha già elencate Lisa quindi c'è un'indicazione per quanto riguarda le dotazioni ci sono delle indicazioni per le dotazioni e anche per il design quindi il design deve essere orientato all'inclusività all'accessibilità al comfort alla flessibilità all'integrazione tra interno ed esterno e poi ci sono delle dotazioni minime che ogni classroom quindi ogni classe dovrà di cui ogni classe dovrà essere munita ad esempio la connessione quindi queste aule dovranno essere dotate sicuramente di una rete cablata e di una rete wifi ci devono essere degli arredi modulari flessibili per consentire delle rapide riconfigurazioni quindi degli spostamenti l'aula deve essere come dire deve essere appunto fluida deve essere movibile non deve essere uno spazio statico per intenderci come l'aula tradizionale devono essere presenti all'interno dei dispositivi per lo studio delle stemme per la creatività digitale per l'apprendimento ci devono essere dei dispositivi per la promozione di scrittura e di lettura dispositivi per la possibile fruizione a distanza di tutte le attività schermi digitali eccetera eccetera la dotazione insomma la trovate la configurazione minima la troviamo un po' da tutte le parti poi ci sono tanti 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 esempi che sicuramente l'ISA e la campus store vi metterà a disposizione e lo faranno sicuramente molto ma molto meglio rispetto al sottoscritto e per quanto riguarda invece next generation labs abbiamo detto che bisogna approfondire il paragrafo 3.2 del piano scuola 4.0 e sono sostanzialmente dei laboratori ogni scuola deve realizzarne almeno uno questo è il minimo il target minimo realizzare dei laboratori per le professioni digitali del futuro adesso anche in questo caso abbiamo delle indicazioni molto precise e dettagliate da parte del ministero su quelle che sono le esperienze da poter realizzare all'interno di questi laboratori quali sono gli ambiti tecnologici che possono riguardare quindi possono riguardare questi laboratori tra le per esempio sicuramente il cloud computing la cyber sicurezza la robotica e l'automazione l'internet of things quindi l'internet delle cose la comunicazione digitale la realtà aumentata insomma tutto ciò che guarda al futuro da un punto di vista digitale e poi i settori economici quindi che interessano questi laboratori che possono appunto interessare questi laboratori per poter accedere al portale e questo è diciamo sostanzialmente un portale con il quale noi dobbiamo imparare a familiarizzare con il quale dobbiamo convivere d'oggi in avanti almeno per un paio di anni e il portale futura PNRR un portale che è stato realizzato dal nostro ministero e che prevede un'area riservata alle scuole area alla quale ogni DS e ogni DSGA può accedere noi siamo già stati profilati dal ministero e per poter accedere a questo portale possiamo utilizzare o le credenziali tradizionali che utilizziamo per accedere al SIDI oppure possiamo farlo attraverso l'identità digitale quindi lo SPID o possiamo accedere attraverso la carta di identità elettronica oppure attraverso il sistema EIDAS cioè l'identificazione elettronica possono accedere come vi dicevo i dirigenti scolastici e i DSGA questo sito che poi adesso andremo a guardare poi insieme su quale entreremo insieme e quindi questa piattaforma sostanzialmente consentirà di gestire in toto i progetti del PNRR quindi si partirà dalla fase 1 che è la progettazione all'interno della quale è possibile inserire la proposta progettuale l'accordo e l'accordo di concezione che sono i due elementi fondamentali per poter partire poi ci sarà la parte relativa alla gestione riservata alle attività di monitoraggio e rendicontazione dei progetti poi ci sarà una parte riservata all'assistenza e una parte chiamata comunicazione comunicazioni all'interno della quale noi troveremo tutti gli aggiornamenti quindi tutte le news che il ministero riterrà opportuno inserire per rendere insomma i dotti tutti noi sul dafarsi quindi questi sono i quattro diciamo queste sono le quattro macro aree che troviamo all'interno della piattaforma futura la vediamo insieme quindi per poter accedere andiamo sostanzialmente sul sito pnrr punto istruzione punto it entreremo nell'area riservata quindi cliccheremo scuola a quel punto o utilizziamo le credenziali del CD oppure effettuiamo l'accesso con speed con carta di identità elettronica o con ADAS quindi io adesso accedo per comodità con quelle che sono le mie credenziali e ci troviamo di fronte alla piattaforma piattaforma all'interno della quale in primo piano troveremo quelle che sono le ultime comunicazioni e poi come preferite possiamo utilizzare queste finestre in alto a sinistra oppure molto più semplicemente molto più agevolmente utilizzare queste macro icone poste al centro dello schermo in questa fase noi andremo all'interno della progettazione ma ripeto se e sicuramente ne avrete bisogno ci sarà da chiedere un'assistenza al ministero per poter avere dei chiarimenti su come procedere dobbiamo appunto entrare nell'assistenza come insomma vedrete ho già inviato 4-5 fac al ministero perché ripeto trattandosi di progetti nuovi è ovvio che i dubbi sono tanti anche per questa parte relativa alla diciamo all'assistenza abbiamo ne parlavamo proprio ieri con Lisa diciamo che i miei dubbi saranno anche i vostri e quindi tutto ciò che io riuscirò ad acquisire attraverso queste queste fac queste richieste di assistenza le girerò girerò il tutto all'ISA e l'ISA poi a sua volta riverserà a cascata le informazioni perché è ovvio che è solo in questo modo che possiamo cercare di collaborare e cercare di come si vuol dire cavare il ragno dal buco di fronte ad un qualsiasi dubbio e quindi io qui nello specifico ho chiesto delle cose che poi appunto ripeto condividerò con voi per quanto riguarda queste due azioni nel momento in cui vedete la richiesta è stata inoltrata c'è questa piccola questo piccolo simbolo questa freccia verso destra in blu il che significa che la richiesta è in lavorazione quando ci sarà invece il segno di spunta verde significa che quella pratica è stata lavorata quindi quella richiesta è stata evasa e riceverete anche un un alert sulla posta elettronica della scuola cioè sostanzialmente vi arriverà una notifica dove ci sarà scritto in merito alla richiesta di assistenza numero è stata evasa accedere al portale per poter visionarne il contenuto più o meno questo sarà il succo della mail si accede e si vede che cosa ha risposto l'unità di gestione quindi tornando alla progettazione noi avremo praticamente qui elencati tutti i progetti che il nostro istituto scolastico può presentare quindi nello specifico qui vedo azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica che è un altro progetto un'altra azione del PNRR ho messo anche qualcosina nelle slides che manderò poi a Lisa e che Lisa mi metterà a disposizione e poi avremo i due progetti di cui stiamo parlando e cioè il piano scuola 4.0 azione 1 next generation class ambienti di apprendimento innovativi next generation labs laboratori per le professioni digitali del futuro per poter presentare io adesso anche per una questione perché le slides magari si vedono ma non proprio benissimo perché le ho prese in alcuni in alcuni per alcune slide le ho prese dalle linee guida da altri documenti e quindi magari possono risultare le schermate un po' sfocate e quindi se per voi non è un problema io entro proprio all'interno di ogni progetto così che le videate saranno ben visibili a tutti e tra l'altro insomma ci sarà anche una sorta di contezza immediata di quello che andremo a trovarci di fronte nel momento in cui ci accingeremo a compilare questi progetti quindi cominciamo con l'azione 1 quindi piano scuola 4.0 azione 1 next generation class ambienti di apprendimento innovativi e qui c'è il riferimento vedete qui in basso mac1 3 2 eccetera eccetera questa è la codifica del mio progetto quindi ogni scuola poi avrà una sua codifica questa codifica è importante perché secondo me così come avviene per i progetti PON la dobbiamo riportare all'interno del codice CUP in maniera tale che c'è anche un'associazione univoca anche da questo punto di vista quindi c'è da parte di chi legge il CUP la possibilità di andare ad identificare immediatamente anche il singolo progetto quindi le possibili i possibili stati di un progetto li troviamo qui al centro della pagina quindi in fase di progettazione noi avremo da inserire ed è quello che sostanzialmente troviamo adesso noi vedete qui c'è scritto da inserire una volta che cominciamo a lavorare su questo progetto perché ovviamente possiamo entrare compilare delle parti salvare poi uscire e riaccedere in un secondo momento troveremo che lo status dello stesso da da inserire passerà a in lavorazione poi c'è sempre in lavorazione ma in arancione c'è scritto in questo qui significa che praticamente il progetto va firmato e deve essere inoltrato l'accordo di concessione se previsto dall'avviso o dal decreto in questo caso l'accordo di concessione è previsto per entrambe le azioni 1 e 2 da integrare se la proposta progettuale necessita di integrazioni secondo le indicazioni ricevute dall'amministrazione quindi potrebbe anche accadere che una volta inoltrato il progetto ci sia ci vengano richieste delle integrazioni inoltrato in verde la proposta progettuale è stata inoltrata questa per quanto concerne la progettazione la fase invece di gestione presenta degli altri stati può presentare degli altri stati che sono da autorizzare quindi il progetto è in attesa di autorizzazione autorizzato il progetto è stato autorizzato in corso la scuola ha inserito la data di assunzione a bilancio e quindi il progetto diventa esecutivo concluso la rendicontazione finale a saldo è stata approvata e il progetto è concluso quindi questo lo vedremo molto molto più in là quindi quando dobbiamo inserire un nuovo progetto dobbiamo sostanzialmente cliccare su l'icona del più o adesso abbiamo detto siamo all'interno dell'azione 1 vedo se riesco ad ingrandire un po' lo schermo no no va bene Lisa si vede bene mi dai un cenno di riscontro per cortesia guarda io ti vedo benissimo sinceramente poi è chiaro che è uno schermo molto grande quindi magari è quello però è leggibile sì poi diamo un'idea in ogni caso volevo rassicurare tutti la registrazione completa vi sarà inviata domani così come le slide quindi è semplicemente un servizio in più questo che sta facendoci Fabrizio che ringrazio tantissimo proprio di guidarci all'interno della piattaforma quindi grazie ancora continuiamo ok ok ti sento a tratti Lisa adesso sì mi sono ho spento il microfono per non dare fastidio allora ah ok ok va bene allora dunque dicevo la prima ideata che troveremo di fronte in fase di inserimento del progetto è quella relativa ai dati generali qui ovviamente troveremo già tutto precompilato perché questo appunto che vi sto facendo ho preferito optare per questa soluzione perché è quello che vedrete anche voi quindi non è diciamo tra virgolette una slide sterile messa lì eccetera eccetera ma è quello che ogni scuola vedrà dal proprio profilo e quindi qui c'è un c'è il titolo del progetto già precompilato c'è la descrizione del progetto c'è l'importo assegnato c'è la linea di investimento e c'è il codice dell'avviso qui noi dovremmo andare ad inserire il titolo del nostro progetto dobbiamo inserire adesso metto prova tanto per andare avanti perché sennò poi non ci fa vedere gli altri campi una descrizione sintetica del progetto possiamo mettere 3500 caratteri quindi andare a riassumere sostanzialmente in breve in soldoni quello che vogliamo fare la data d'inizio del progetto è già precompilata dal sistema la data fine progetto prevista è già precompilata dal progetto possiamo anche come dire modificare queste due date tenendo però ben presente quelle che sono le indicazioni chiarissime riportate all'interno del portale e cioè che la data non può essere inizio non può essere antecedente il primo gennaio 2023 la data successiva cioè la data di termine non può essere successiva al 31 12 2024 è a questo punto che il portale ci chiederà di generare il cup con il template che vedete il codice del template ce lo suggerisce già il portale quindi noi non dobbiamo fare altro che schiacciare sul tasto genera cup magari facciamo apri collegamento in una nuova scheda ecco qui praticamente entriamo all'interno del portale del MEF di cui vi parlavo prima dove dobbiamo inserire la username e la password del dirigente scolastico perché sono i dirigenti profilati al suo tempo all'interno del di questo portale e procedere con l'acquisizione del del cup chiedo a Lisa se abbiamo tempo al limite velocemente di mostrare come si acquisisce un cup io penso sia fondamentale ti ringrazio quindi se qualcuno si deve scollegare non vi preoccupate neanche per le presenze per l'attestato se siete stati con noi fino adesso voi li mandiamo comunque quindi capisco che magari dovete andare a buttare la pasta mi rendo conto noi però ritengo sia fondamentale perché domani vi invieremo la registrazione per cui poi potrete saltare da un punto all'altro a seconda della necessità penso sia utile per tutti quindi se puoi Fabrizio per favore ok secondo soltanto perché devo recuperare i credenziali un secondo soltanto sì allora sì chiunque debba andare non vi preoccupate assolutamente appunto domani riceverete l'attestato le slide la registrazione quindi tutta questa cosa domani pomeriggio sul tardi nel senso che dobbiamo un po' sistemare tutte queste cose i riferimenti per la mappatura digitale il campus selfie di cui vi parlavo prima e i riferimenti per i progetti passatemi il termine per i progetti d'esempio che trovate sempre sul nostro sito quindi se qualcuno di voi ho visto delle domande abbastanza ricorsive eccetera ha tempo di fermarsi io comunque le farò a Fabrizio quindi poi registreremo questa parte potrete rivedervele anche successivamente se dovete andare andate pure nel frattempo informo Fabrizio che stanno dicendo vorrei avere anch'io un DSGA così nella mia scuola quindi complimenti allora adesso vediamo grazie ancora non vi preoccupare non vi preoccupate se avete seguito su YouTube o su Facebook se vi siete iscritti fondamentale che vi siate iscritti sul nostro blog insomma precedentemente se poi avete siete passati diciamo da YouTube non è un problema potete assolutamente ricevere l'attestato quindi non non vi preoccupate per questo no non direi di fare una catalogazione per chi mi chiede la mappatura delle risorse in S beh ne parliamo dopo durante le domande rilascio la parola Fabrizio un attimo soltanto ecco arrivo che dunque una volta che siamo entrati all'interno del portale del CUP andiamo sostanzialmente qui dove c'è scritto genera CUP completo o avendo noi già un codice template che il ministero ci ha ci ha dato ci ha fornito non facciamo altro che inserirlo qui quindi il template per l'azione 1 è questo quindi lo copiamo scusa e lo incolliamo qua così non sbagliamo vai al template ecco qua abbiamo già il CUP quasi interamente compilato nei campi obbligatori perché naturalmente i campi obbligatori sono soltanto quelli asteriscati quindi la natura dell'intervento quindi acquisto di beni è una nuova fornitura il settore è quello delle infrastrutture sociali e scolastiche la categoria è quella delle scuole medie eccetera eccetera la tematica del PNRR MC M4C1 è già precompilata e poi dobbiamo inserire il numero di classi trasformate in ambienti innovativi e questo lo prendiamo dal progetto qui dove c'è scritto indicatori e target se non ricordo male eccolo qua valore del target qui le classi si trasformano in ambienti di apprendimento valore del target unità di misura numero valore del target 37 quindi questo target noi lo andiamo a riportare qui perché nel mio caso è 37 nel vostro caso sarà quello che troverete all'interno del portale e questo target essendo il valore minimo è pari alla metà delle classi che dobbiamo trasformare in ambienti digitali in ambienti digitali innovativi ciò non toglie come diceva anche prima lisa che questo dato possa essere modificato ma non in diminuzione sempre in aumento sempre in eccedenza perché il minimo è la metà ma noi possiamo anche andare oltre la data prevista per il raggiungimento del target io metterei 31 12 2024 che è la data di conclusione sostanzialmente del progetto questo lo possiamo fleggare perché è la norma di riferimento la data di chiusura prevista ripetiamo 31 12 2024 che è già anche suggerita qui sul template vai avanti nella generazione allora la data di chiusura prevista immessa non può essere antecedente uguale alla data odierna e che ci ho messo io ah si ho sbagliato qua 2004 2024 vai avanti nella generazione qui va bene attenzione eccetera eccetera possiamo andare avanti non c'è problema non esiste un coop master nel nostro caso quindi andiamo avanti nella generazione perché il coop master praticamente poi vabbè ve lo spiegherò in un'altra circostanza è sostanzialmente quello che è a monte cioè se il ministero avesse creato un coop che racchiudeva tutti gli acquisti che rientravano nella azione del PNRR ce lo avrebbe fornito e noi lo mettevamo lì ma in questo non è il nostro caso quindi possiamo sostanzialmente andare avanti qui opera infrastruttura interessata dobbiamo mettere il nominativo della scuola quindi io adesso metto il nome della mia scuola oppure possiamo se è stata già inserita altre volte cercarla tra le strutture già inserite il bene andremo a mettere qui per sommi capi ovviamente quelli che i beni che andremo ad acquistare quindi adesso metto che ne so realizzazione tanto per poi bisogna andare un po' più nel dettaglio di 37 aule innovative complete nel dotazione digitali come da piano scuola 4.0 paragrafo 2.2 che è quello che riguarda le aule le classroom la localizzazione andremo a mettere la praticamente l'indirizzo della scuola quindi la regione di appartenenza la provincia il comune e clicchiamo su aggiungi confermo la mia localizzazione la via la mettiamo qui dopodiché andremo a questo niente non è un progetto inerente all'emergenza covid la codifica locale c'è già quindi possiamo lasciare questa codifica che il sistema ci propone quindi rettifico quello che ho detto in precedenza e quindi lasciamo questa codifica lo strumento di programmazione ci mettiamo altro perché la voce è più adatta non è un accordo quadro il costo totale del progetto andiamo ad inserire che cosa il valore che ci è stato finanziato quindi lo prendiamo dalla parte relativa ai dati generali quindi questo è nel mio caso l'importo che mi è stato assegnato quindi lo vado a riportare qui c'è un problema che questo purtroppo il portale non accetta i decimali quindi qua dobbiamo mettere arrotondato lo lasciamo così e va bene amen la tipologia di copertura finanziaria è comunitaria ma è precompilata andiamo avanti nella generazione si continua a questo punto se io voglio generare adesso non lo faccio perché non sono ancora nella fase insomma di presentazione del progetto non devo fare altro che generare il cup e a questo punto il sistema mi attribuirà un codice che insomma tanti di voi avranno già visto è un codice alfanumerico che sarà associato a questo mio progetto questo codice alfanumerico ovviamente io lo andrò a riportare all'interno scusate all'interno della qui di questo campo quindi lo copio e lo incollo qui dopodiché dovrò compilare ma anche questi campi sono predefiniti dal sistema dovrò indicare i dati del legale rappresentante che il nome cognome codice fiscale indirizzo email e telefono del dirigente scolastico che è ovviamente il rappresentante legale diciamo per inciso questi progetti devono essere sottoscritti unicamente dal dirigente scolastico non ci possono essere altre persone che possono farlo per proprio conto quindi non è prevista la delega qui mettiamo i dati del referente del progetto quindi nome cognomi mail telefono eccetera eccetera i dati della scuola proponente ce li abbiamo già quindi adesso io per poter andare avanti devo inserire questi dati quindi metto qua referente del progetto mettiamo email metto sempre pace il telefono sono diciamo sono dei dati che sto mettendo così a casaccio e che poi tanto si può fin tanto che il progetto non è stato inoltrato può essere sempre modificato quindi salva la mia schermata diventa verde quindi vuol dire che questa parte qua nel mio caso manca il coop ma è soltanto perché non ce l'ho messo comunque posso andare avanti e lo stato del progetto se noterete cambia e diventa in lavorazione poi passiamo nella parte relativa al dettaglio dell'intervento che è sostanzialmente il corpo questo è il fulcro del progetto ed è per compilare questa parte che serve tutta quell'attività progettuale che vi ho detto prima quindi è per questo motivo e per poter compilare questa sezione che bisogna costituire il gruppo di progettazione che si dà delle linee operative e bisogna buttare giù previa ricognizione di quelli che sono gli spazi di quelle che sono le strumentazioni e dotazioni a disposizione si appunto compila si realizza un progetto esecutivo che si va a delineare ad enucleare all'interno di questa sezione quindi c'è l'analisi preliminare e quindi qui andremo sostanzialmente a riportare quello che è la risultanza della di questa indagine preliminare di questa attività ricognitiva degli spazi e delle dotazioni esistenti qui andremo poi come vedrete come vedete sono sempre campi piuttosto contenuti in termini di caratteri massimi e quindi non è che possiamo dilungarci più di tanto quindi bisogna essere piuttosto sintetici quindi qua andremo a descrivere in maniera sintetica gli ambienti di apprendimento innovativi che intendiamo realizzare e anche quelle che sono le finalità didattiche connesse con la loro realizzazione quindi per poter fare questo dovete leggere attentamente il piano scuola 4.0 nello specifico il paragrafo 2.2 sulla base di quanto indicato nel piano scuola 4.0 l'istituzione scolastica ha stabilito di adottare un sistema basato su aule fisse ambienti di apprendimento dedicati per disciplina con rotazione delle classi ibrido entrambe le soluzioni anche questa è una scelta prettamente didattica e quindi il gruppo di progettazione deve stabilire come intende realizzare queste aule perché le aule possono essere fisse cioè creare degli ambienti dove una classe andrà sempre per l'intera durata dell'anno scolastico oppure possiamo creare un'aula dedicata ad una singola disciplina faccio un esempio un'aula dedicata alla fisica oppure un'aula dedicata alla matematica alla chimica eccetera eccetera all'informatica e questa aula essendo riservata per quella disciplina sarà utilizzata a rotazione da tutte le classi dove ovviamente quella in cui quella materia viene insegnata oppure si può optare per una soluzione ibrida cioè un po' e un po' qui vanno poi inseriti la tipologia il numero e la descrizione degli ambienti che saranno realizzati ovviamente dobbiamo realizzare un numero di ambienti che è pari al target assegnato nel mio caso 37 quindi vuol dire che qua dobbiamo inserire 37 righe 37 campi uno per ogni aula infatti il portale ci suggerisce di inserire una riga per ciascun ambiente previsto nel caso di ambienti con le stesse caratteristiche indicare il numero complessivo previsto è ovvio che se vogliamo creare due aule uguali tre aule uguali con le stesse caratteristiche qui possiamo sostanzialmente riportare il totale l'importante è che poi il numero totale corrisponda almeno al target minimo poi dobbiamo riportare in questo campo le innovazioni organizzative didattiche curricolari metodologiche che saranno intraprese a seguito della trasformazione degli ambienti dobbiamo declinare anche quella che sarà la descrizione dell'impatto in merito quindi ciò che queste aule produrranno in termini di inclusività pari opportunità e superamento dei divari di genere riportare in questo campo la composizione del gruppo di progettazione una cosa che non ho detto prima è che ovviamente tutte le attività che praticamente riguardano attengono a questi progetti devono essere formalizzate con atti e quindi anche il gruppo di progettazione va costituito e questa costituzione deve avvenire attraverso un atto del dirigente scolastico che deve essere opportunamente conservato perché ci potrebbe essere potrebbe essere richiesto in fase di monitoraggio o in fase di rendicontazione o in fase di controllo successivo quindi è sempre bene mettere come si suol dire nero su bianco quindi ogni cosa che noi andiamo a fare la dobbiamo formalizzare mi rendo conto che questo rappresenta un impegno pesante lo stress psicopisico non da poco però io con la mia esperienza nella mia esperienza scusate ho capito che quando si mettono insieme tutti quanti i pezzi del puzzle poi alla fine il puzzle lo riusciamo a comporre e di fronte ad un eventuale controllo siamo tra virgolette abbastanza tutelati posto che premesso che trattandosi di procedure complesse una scucitura purtroppo ci può sempre stare però se noi riusciamo a dimostrare che abbiamo fatto tutto il possibile per evitare di incappare in un errore più o meno grave sicuramente questo è un elemento a nostra discolpa diciamo in termini di giudice è un attenuante come si suol dire qui dobbiamo andare a formalizzare le modalità operative che il gruppo di progettazione intende attuare intende porre in essere qui vanno inserite invece le misure di accompagnamento previste dalla scuola per un efficace utilizzo degli ambienti realizzati quindi che cosa ci vogliamo sostanzialmente cioè che cosa come intendiamo affiancare la realizzazione di questi spazi attraverso una formazione del personale attraverso delle pratiche interne mentoring tutoring interpari eccetera eccetera anche queste sono scelte prettamente diciamo tecniche operative che ogni scuola può ovviamente calibrare a seconda di quelle che sono le proprie caratteristiche le proprie esigenze in questa sezione bisogna riportare una bisogna descrivere le misure di accompagnamento che saranno promosse per un efficace utilizzo degli ambienti realizzati quindi qui le andiamo semplicemente ad elencare o a spuntare sono essere anche più di uno qui sotto le andiamo a dettagliare cioè dire come nello specifico se per esempio spuntiamo la formazione del personale qui andremo a declinare in che modo e che tipo di formazione per esempio del personale che dovrà essere ovviamente pertinente al progetto quindi alla finalità progettuale intendiamo porre in essere fatto ciò e quindi questa è la parte più corposa della presentazione del progetto ed è per questo che dobbiamo essere arrivare pronti al 28 di febbraio non perché le altre cose siamo si fanno piuttosto velocemente entriamo nella parte relativa alla quella degli indicatori e target qui troviamo dei campi già precompilati e quindi avremo la parte relativa agli indicatori e dobbiamo inserire il valore annuale programmato di alunni e alunni studente e studentesse a seconda del grado di scuola docenti che effettano il primo servizio o i servizi digitali realizzati o attivati negli ambienti innovativi quindi qui ci sarà un valore numerico che ovviamente sarà differenziato da scuola l'unità di misura è utenti per anno quindi dobbiamo praticamente indicare numericamente i fruitori quelli che saranno i fruitori che effettueranno il primo accesso a questi nuovi servizi poi il target come vi dicevo prima è precompilato ed è pari alla metà della delle classi esistenti nell'istituzione scolastica andiamo ancora avanti ed entriamo vabbè adesso qui non mi fa andare avanti perché devo mettere per forza un numero mettiamo mille affinché possa andare avanti prosegui qui entriamo nella parte relativa agli acquisti e quindi è una parte anch'essa molto importante e dobbiamo avere arrivati a questo punto contezza di quello che vogliamo realizzare ecco perché vi dicevo che nella fase di progettazione bisogna avere un'idea più o meno precisa anche di costo perché altrimenti non sappiamo se poi stiamo riusciamo voglio dire a rimanere all'interno di quelle che sono di quelli che sono i massimali e in questo caso anche dei minimi per singola voce progettuale quindi come aveva detto prima anche Lisa per la parte più corposa del finanziamento ovviamente è riservata alle spese per l'acquisto di dotazioni digitali attrezzature contenuti digitali app software e quant'altro cui può essere riservato un minimo del 60% del finanziamento massimo addirittura 100% quindi potremmo anche per assurdo decidere di riversare tutto sulle spese all'acquisto di dotazioni digitali questo ovviamente non è non sarebbe diciamo la vedo piuttosto complicata che tutto si possa riversare sulle spese di acquisto di dotazioni digitali eccetera eccetera il campo è già precompilato ma come vedete è tranquillamente modificabile quindi possiamo inserire noi l'importo che intendiamo che prevediamo di di spendere per quanto concerne poi la gli erredi innovativi nella nelle linee guida l'importo o meglio la percentuale massima da poter riservare agli arredi innovativi è pari al 20% ovviamente deve questi arredi innovativi devono essere per poter rientrare in questa voce naturalmente devono essere funzionali all'attività progettuale cioè la finalità che si intende perseguire con la realizzazione del progetto poi c'è un'altra voce ossia le spese per piccoli interventi di carattere edilizio strettamente funzionali all'intervento ad esempio abbiamo bisogno di un esempio proprio banalissimo tinteggiare l'aula questa è una delle possibilità è uno dei costi che possono rientrare in tale tipologia di spesa abbiamo detto che ogni aula innovativa deve essere cablata e quindi le opere di cablaggio rientrano in questo 10% ad esempio e poi abbiamo l'ultima voce che può essere al massimo pari al 10% e riguarda le spese di progettazione e le spese tecnico operative compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità perché una volta che il progetto sarà stato approvato oltre alla pubblicità che abbiamo fatto che possiamo avviare già adesso sul sito dell'istituzione scolastica è opportuno ad esempio realizzare che ne so della segnaletica delle targhe sempre con i loghi del PNRR da porre da porre all'ingresso di queste nuove aule di questi nuovi laboratori cioè un qualcosa che dia ulteriore risalto o comunque altre forme di possibilità di pubblicità che possono venirvi in mente diciamo che loro non pongono limiti alle azioni di pubblicità ognuno è libero di utilizzare le forme che ritiene opportuno l'importante è che si proceda a pubblicizzare l'intervento nei modi opportuni una volta compilato il adesso torno indietro così mi dovrebbe rimettere l'importo eccolo qua del progetto e vado avanti una volta compilata anche la parte economica quindi il piano finanziario andremo a entreremo nella parte conclusiva cioè la parte relativa al riepilogo del progetto qui ci sarà riportato tutto quello che noi sostanzialmente abbiamo inserito nel nostro progetto adesso non mi farà presumo andare avanti sì mi fa andare avanti però poi mi devo comunque fermare perché non lo posso inviare nella parte relativa al caricamento della proposta progettuale bisogna obbligatoriamente spuntare che cosa che il dirigente scolastico si obbliga in qualità di rappresentante legale del soggetto attuatore quindi della scuola a rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria con particolare riferimento al decreto legge 77 del 2021 inoltre il dirigente scolastico si impegna a garantire che le procedure di affidamento saranno conformi a quelle previste dal decreto legge 50 del 2016 quindi dal codice dei contratti che tutto ciò che praticamente trovate scritto qua che si impegnerà a trasmettere tutta la documentazione riguardante la rendicontazione del del conseguimento dei target dei milestone l'assolvimento del dnsh il dnsh sarebbe l'aver controllato che le dotazioni tecnologiche non producano un danno significativo all'ambiente quindi dnsh do not significative arms significa praticamente in inglese tradotto in italiano e che il dirigente scolastico ha comunque rispettato gli obblighi in materia di comunicazione informazioni previste dall'articolo 34 del regolamento europeo 241 del 2021 cioè tutta una serie di obblighi ai quali naturalmente non possiamo di cui non possiamo ovviamente non tener conto a questo punto c'è la possibilità di visualizzare l'anteprima del documento progettuale che abbiamo presentato ce lo riguardiamo se tutto è a posto qui inseriremo pin e password della firma digitale sidi in possesso del dirigente scolastico e poi cliccheremo su firma e carica a quel punto il nostro progetto sarà stato caricato all'interno del portale o se vogliamo c'è quest'altra sezione attraverso la quale dalla quale scusate è possibile scaricare il progetto scaricare il progetto presentato firmarlo fuori dal portale futura quindi se uno vuol farlo sempre ripeto il dirigente scolastico firmarlo in P7M attraverso un altro sistema di firma elettronica caricare qui il file quindi sfogliare per andare a ovviamente individuare il progetto salvato in P7M e lo andiamo a caricare per poi inoltrarlo una volta che è stata effettuata stato firmato quindi il progetto digitalmente in P7M dal dirigente scolastico andiamo a praticamente completare la procedura adesso io non lo farò attraverso l'invio dell'accordo di concessione quindi progetto accordo di concessione partiranno e saranno trasmessi inoltrati al al ministero e qui sostanzialmente si conclude questa prima fase una volta che il progetto è stato presentato naturalmente non ci resta che attendere non ci resterà che attendere l'esito e quindi verificare se il ministero riterrà opportuno dei chiarimenti e quindi troveremo come vi ho fatto vedere prima la richiesta contrassegnata dal campo da integrare e con il colore viola altrimenti il progetto sarà approvato e quindi lo troveremo poi nella fase autorizzata così come avrete modo insomma di verificare voi stessi per quanto riguarda l'azione 2 cioè next generation labs adesso io mi limiterò anche per motivi di tempo a farvi vedere sostanzialmente quello che è il corpo del progetto che differisce leggermente dal next generation classroom perché per quanto concerne le restanti parti sono uguali sono le stesse cioè nei dati generali noi dobbiamo andare sostanzialmente a mettere le stesse cose ovviamente il CUP sarà diverso ovviamente come vi ho detto il template per questa azione è diverso il referente potrà essere diverso il legale rappresentante no perché rimarrà sempre il dirigente scolastico nella fase nella cartella diciamo nella sezione 2 troveremo l'importo assegnato del progetto che in questo caso è standard a seconda del grado di scuola qui però nel dettaglio dovremmo andare praticamente ad inserire che cosa? le competenze digitali specifiche che la scuola intende promuovere con la realizzazione dei laboratori per le professioni digitali del futuro ed è un campo obbligatorio dovremo andare a descrivere le professioni digitali del futuro verso le quali saranno orientati questi nuovi spazi laboratoriali che ricordo dovrà ogni scuola ogni istituto secondario di secondo grado dovrà realizzare almeno un laboratorio professionale del futuro e infatti qui è un campo opzionale il portale prevede la possibilità di indicare il numero ulteriore di laboratori che eventualmente la scuola intende realizzare rispetto al target minimo l'ambito tecnologico afferente al laboratorio che verrà realizzato e dopo di che andiamo a selezionare il settore economico afferente al laboratorio o ai laboratori se ne sono più di uno che sarà barra saranno allestiti la significatività delle esperienze formative che verranno condotte nel laboratorio o nei laboratori allestiti quindi quanto job shadowing andremo a fare e che tipo di job shadowing i lavori di gruppo quindi anche una descrizione dei lavori di gruppo quanto ci sarà invece relativamente all'ideazione pianificazione e realizzazione di prodotti e servizi dopodiché andremo a compilare questo campo che riguarda la descrizione complessiva del laboratorio o dei laboratori che verranno realizzati per ciascun laboratorio bisogna descrivere in maniera ben precisa e dettagliata tutto ciò che intende tutto quello che sarà la dotazione quindi dovremo andare a riportare le attrezzature i dispositivi i software che prevediamo di acquistare gli arredi tecnici gli spazi eccetera eccetera anche in questo caso andrà indicato il gruppo di progettazione andranno riportate le modalità organizzative del gruppo di realizzazione e le eventuali iniziative di coinvolgimento attivo della comunità scolastica delle università degli ITS centri di ricerca eccetera eccetera imprese del territorio e anche in questo caso dovremmo andare a specificare così come abbiamo visto per le classi dobbiamo andare a specificare le misure di accompagnamento e descrivere poi nel dettaglio le singole misure di accompagnamento che saranno realizzate per rafforzare l'efficacia dell'utilizzo del laboratorio per quanto concerne gli indicatori e i target ovviamente in questo caso anche qui va riportato il numero di utenti iniziali quindi di coloro che effettueranno il primo accesso a questi servizi digitali realizzati considerando quindi alunni alunni studenti studentessi e docenti e poi qui troveremo precompilato il target cioè l'obiettivo minimo che va che deve essere raggiunto e rendi contato da parte del soggetto attuatore entro il trimestre l'anno di scadenza indicato e cioè entro il 31 marzo del 2025 perché entro il trimestre e l'anno di scadenza indicato scusate entro il trimestre e l'anno di scadenza questo è da approfondire perché se non ricordo male dovrebbe essere 31-12-2025 non 31 marzo 2025 comunque questo è qualcosa che avremmo modo di approfondire anche in questo caso ci imbatteremo nel nostro piano finanziario le percentuali sono esattamente le stesse rispetto alle classi quindi anche in questo caso andiamo a considerare una serie di minimi e massimi quindi l'acquisto delle dotazioni digitali laboratori eccetera eccetera va da un minimo del 60% ad un massimo del 100% poi abbiamo le eventuali spese per gli arredi tecnici che devono essere sempre funzionali al laboratorio o ai laboratori realizzati pari al 20% i piccoli adattamenti edilizzi 10% le spese di progettazione e tecnico operative 10% bene dopodiché ci sarà il riepilogo il caricamento e la firma della proposta progettuale l'inoltro del progetto dell'accordo di concessione e anche questo diciamo questo progetto per il momento si ferma qui vedremo poi insomma nello specifico cosa cosa fare nelle successive nei successivi incontri che saranno molto più tecnici molto più anche se vogliamo impegnativi io nella nelle slides che poi darò a Lisa ho inserito anche un accenno al al discorso della dispersione cioè al terzo progettone che è quello della dispersione scolastica e perché anche quello deve essere sostanzialmente presentato entro il 28 febbraio del 2023 se questi erano gli accordi con l'ISA la cosa dovesse interessare magari vedremo un attimino di approfondire anche questo intanto lì trovate un accenno delle slide su quelli che sono i passaggi per la compilazione premetto che quello è un progetto molto molto più articolato e molto più complesso da un punto di vista prettamente didattico rispetto a questi a questi due cioè è molto didattico rispetto a questi anche questi sono didattici per l'amore del cielo però sono più improntati all'aspetto delle attrezzature delle dotazioni tecnologiche invece l'altro riguarda sostanzialmente delle azioni di mentoring azioni di formazione per per gli studenti sostanzialmente rafforzamento delle competenze di base e soprattutto rispetto a questo progetto che è a costi reali ecco questo avevo dimenticato di dirvi e quindi sostanzialmente noi andremo a ricevere l'eccezione fatta per l'acconto iniziale per gli altri acconti per stati di avanzamento andremo a ricevere quello che effettivamente abbiamo speso perché appunto la rendicontazione è su base reale mentre invece la dispersione scolastica è a costi standard quindi diciamo che se volessimo fare un parallelismo un parallelo tra i con i PON questi progetti qua del piano scuola 4.0 li possiamo assimilare a dei PON FESR la dispersione scolastica è come se fosse un PON FSE quindi il costo standard diciamo prescinde da quello che effettivamente è stato speso perché ci sono i costi standard le unità di costo standard che sono quelle per ora e quelli sono e niente io mi fermerei qui Fabrizio no allora ti ringrazio tantissimo credo sia stato preziosissimo nonostante qualcuno si sia dovuto staccare perché ovviamente siamo ancora in tanti 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 perché io vedo qui GoToWebinar però poi stiamo trasmettendo in contemporanea anche su Facebook su Youtube e rassicuro tutti riceverete l'attestato anche se siete su questi canali alternativi ma davvero anomalo sono ancora in migliaia collegati allora le domande che sono arrivate sono una quantità incredibile e quindi direi che sono molto difficili da gestire tutti se vogliamo andare a dormire banalmente entro sera allora io vi propongo questa cosa allora innanzitutto permettetemi una cosa di ringraziare i miei colleghi Paolo Valentina Marco soprattutto che hanno reso possibile questa cosa perché vi assicuro che c'è un'infrastruttura non banale dietro l'avete visto all'inizio insomma di questo del collegamento insomma è complesso ma vi ringraziamo tantissimo per insomma averci seguito averci accordato così tante preferenze se siamo riusciti a risolvere il problema in un minuto contato è perché c'è questa grande squadra ringrazio anche Alessandro per il supporto tecnico dietro le quinte scusatemi ma era doveroso per quanto riguarda le domande Fabrizio io farei così ne ho viste 4 o 5 che sono veramente molto ripetitive e risponderei già qui nella registrazione per chi è ancora collegato altre sono più specifiche quindi prendo io l'impegno anche se per noi è un po' più di lavoro io le sistemo in modo da semplificarle ci confrontiamo io e te e mando a tutti un primo documento di FAQ come vi anticipava Fabrizio era comunque nostra intenzione fornirvi anche questo servizio quindi mettere a disposizione un documento sempre disponibile nella pagina Piano Scuola 4.0 del sito Campus Store vediamo di farlo in prima battuta questo però non ve lo riesco a condividere già per domani dateci qualche giorno perché ovviamente sono domande a cui vi ho risposto e vediamo di raggrupparvele se per te va bene Fabrizio procederei così però qualcuna te la devo fare perché ci sono alcune domande abbastanza ricorrenti in tutte le piattaforme perché nel frattempo ho una mia collega che è collegata su YouTube e me le sta mandando quindi sto raccogliendole un po' tutte allora la primissima domanda che sta a cuore a tutti nel 10% delle spese di gestione può rientrare un compenso per il team interno alla scuola che gestisce e che gestirà questo progetto? allora io ho è una delle domande che ho fatto al ministero perché? perché nelle linee guida allora il gruppo di progettazione o meglio nel gruppo di progettazione c'è il dirigente scolastico c'è ci può essere il DSGA le funzioni strumentali l'animatore digitale il team dell'ordinazione e altri e altre figure le linee guida dicono che tutte le figure che lavorano all'interno di questi progetti e che sono che vengono retribuite devono essere selezionate con avvisi pubblici quindi banalmente traducendo se utilizziamo personale interno lo dobbiamo selezionare attraverso un avviso interno così come facciamo per i PON se non troviamo la nostra risorsa all'interno della scuola possiamo andare fuori e facciamo un bando ad evidenza pubblica un bando per esterni e il problema è che secondo me possono essere retribuite queste persone però ho dei dubbi per quanto concerne il DSGA perché non perché non possa essere retribuito per contratto perché il nostro contratto cioè il CCNL scuola per quanto concerne la figura del DSGA dice che praticamente noi non possiamo percepire compensi in aggiunta a quelli che prendiamo dal FIS per la nostra indennità di direzione ad eccezione però dei progetti finanziati con fondi comunitari per esempio e quindi da un punto di vista strettamente normativo secondo me il compenso il DSGA lo può percepire così come lo può percepire il dirigente scolastico quello che mi lascia un po' perplesso è che all'interno delle linee guida loro dicono che nelle spese considerate non ammissibili ci sono le attività amministrative adesso vi leggo proprio esattamente perché me l'ero evidenziato allora ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 2 del regolamento 241 2021 dell'UE non sono ammissibili i costi relativi alle attività di preparazione monitoraggio controllo rendicontazione audit e valutazione in particolare studi analisi attività di supporto amministrativo alle strutture operative azioni di informazione e comunicazione consultazione degli stakeholders spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni non sono altresì ammissibili i costi relativi al funzionamento ordinario dell'istituzione scolastica i costi per l'espletamento di tutte queste attività non possono essere imputati alle risorse del PNRR e quindi non possono formare oggetto di rendicontazione all'Unione Europea alla luce di questa cosa qui quando si parla di attività di rendicontazione quando si parla di attività amministrativa di supporto alle strutture operative il dubbio mi sorge circolano delle notizie io questa cosa l'ho fatta presente nella mail nella richiesta di assistenza che ho inoltrato al ministero poi ripeto vi condividerò con Lisa le risposte quindi insomma tutti sapremo che cosa ne pensa circolano delle notizie per esempio la CGL dice che c'è stato un incontro al ministero e il ministero a dicembre nel corso del quale il ministero stesso avrebbe detto che queste indicazioni sono state superate e che quindi l'attività amministrativa può essere retribuita però di fatto queste linee guida sono successive e quindi se loro essero effettivamente superato così come dice la CGL il problema le linee guida ne avrebbero dovuto tener conto invece trovo ancora nuovamente questa cosa qui come si può tra virgolette a mio avviso aggirare il problema siccome nel 10% è prevista la progettazione è opportuno inserire queste persone nella progettazione e a quel punto non ci potrà non ci dovrebbero essere problemi però questo è uno dei dubbi amletici di questo progetto vediamo di inserirla nelle FAQ se riceveremo risposta o di aggiornarvi nei prossimi incontri sicuramente ne risponderanno spero che questa sia una cosa fondamentale poi altra cosa che io ho chiesto se tutte le figure retribuite devono essere selezionate e io voglio pagare la funzione strumentale o le funzioni strumentali che fanno parte del gruppo di progettazione la funzione strumentale è stata già individuata dal collegio docenti quindi io come faccio nuovamente a selezionare cioè non è che c'è una questa cosa c'è una un assurdo c'è una un'assurdità in termini che a mio avviso deve essere risolta l'animatore digitale è individuato all'inizio dell'anno dal dirigente scolastico quindi se l'animatore fa parte di questo gruppo di progettazione io lo posso retribuire perché fa parte della progettazione ma non l'ho selezionato con un'evidenza pubblica quindi le due cose come le mettiamo insieme e quindi io dico mettiamo nel progetto questo 10% e poi vedremo di risolvere in corso d'opera tutte queste cose qua perché se noi le andiamo a togliere poi automaticamente quella voce non ce l'avremo e quindi se ci dovessero dire sì quella persona la potevi pagare poi non avremmo comunque i soldi per farlo e quindi allora a tal proposito più di qualcuno ha detto ma se io oggi inserisco delle cifre poi mi faccio i conti e vedo che sono cambiate potrò cambiarle dopo il 28 febbraio o no? no quindi conviene tenersi sui massimali probabilmente ok poi altra cosa molto molto richiesta non so se c'è una risposta o se comunque grazie alla tua esperienza puoi darci un'analisi più di qualche scuola ovviamente ha più di un plesso allora dicono per azione 1 ad esempio io devo andare a individuare lo stesso numero di ambienti su cui intervenire per ogni plesso secondo te o può esserci qualche plesso tra virgolette in cui intervengo di più ad esempio il plesso che magari abbiamo ammodernato meno fino ad oggi o insomma che ha ricevuto meno interventi non c'è una regola per cui no assolutamente no quella è una scelta una scelta operativa è molto molto personale cioè riguarda e caratterizza ogni scuola ogni istituzione scolastica quindi non può essere un qualcosa di standard uguale per tutti ogni scuola sa il suo ecco ecco perché è necessaria ed è opportuna una fase di ricognizione iniziale ok perfetto condivido il punto di vista ma volevo essere certa insomma anche che da parte tua ci fosse questo riscontro allora scusate sto guardando tra foglie diversi un attimo questo era sempre sulle sedi retribuzione ne abbiamo l'abbiamo vista allora scusate per quanto riguarda i laboratori ieri è stato detto non nel senso lo specifico perché forse sono stata poco chiara io perché prima ho detto potete andare ad agire con azione 1 anche su un laboratorio non mi riferivo alle secondarie di secondo grado che hanno un'azione specifica però ieri è stato detto soprattutto per i comprensivi qualora in azione 1 possono rientrare anche ambienti che non sono la classica aula di lezione da tutti i giorni ma può rientrare anche è stato detto non da mio zio Mario ma è stato detto dal ministero dell'istruzione perché hanno tenuto un webinar che tra gli ambienti che valgono nel computo delle aule o degli ambienti comunque da su cui andare a intervenire possono valere anche un laboratorio o ambienti di questo tipo mi riferivo a questo è chiaro che per le secondarie di secondo grado andrei principalmente ad agire se devo fare un laboratorio con azione 2 però anche lì posso andare a intervenire su un corridoio o su una vecchia mensa o su un atrio dismesso e chi più ne ha più ne metta poi un'altra domanda molto diffusa è relativa alla rete cioè nelle tecnologie possono rientrare implementazioni di rete oppure in quel 10% diciamo di lavori strutturali edilizi dove rientrano nel 10% nel 10% ok quindi sia cablaggio che eventuale implementazione del wifi fantastico dunque mi pare aspetta un attimo dunque 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 allora qua dice le eventuali spese per piccoli interventi di carattere edilizio sono riferite esclusivamente al lavoro di manutenzione ordinaria di piccola entità se strettamente necessaria l'allestimento degli spazi innovativi per la didattica ad esempio tinteggiatura delle pareti piccoli interventi dell'impianto elettrico eccetera non vedo specificata la parte LAN però questa è una cosa che possiamo io ritengo che rientrino in questo 10% anche perché penso sia abbastanza fondamentale insomma intervenire sulla rete esatto però lo possiamo lo possiamo chiedere esatto va bene ok intanto per toglierci il dubbio esatto allora io direi vista l'ora e siccome le altre domande sono più specifiche le sto vedendo tutte vedo domande sugli alberghieri su aule di coding aule stem tutti interessanti quindi rispondendo ma essendo più specifiche meno ricorrenti vista l'ora suggerirei di andare a mangiare la pasta asciutta appunto vi invito no vi ricordo che la registrazione di oggi così come le slide sia mie che di Fabrizio vi saranno inviate domani vi invieremo gli attestati anche se ci avete seguito su youtube su facebook non temete vi ringrazio tanto 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 io sono rimasta impressionata devo dirvi che mi sono mangiata ben tre unghie nell'ora precedente a questa cosa perché stavo impazzendo dalla paura avevo paura di dire un sacco di stupidaggini vista la quantità di persone che si sono collegate con noi vi ringrazio davvero tanto per la fiducia spero sia stata ben ripagata me lo auguro domani vi invieremo anche le indicazioni relative alla mappatura quindi a quel test diciamo il campus selfie per la mappatura del livello di digitalizzazione diciamo della scuola e poi per seguire insomma con delle proposte all'interno delle slide trovate tutti i contatti che avete richiesto e poi man mano vi invieremo tutti diciamo i prossimi appuntamenti quindi li riceverete nella mail con cui vi siete registrati non temete per quanto riguarda la proposta che aveva fatto Fabrizio se vi interessa un approfondimento sulla dispersione lui è stato così carino da rendersi disponibile ed eventualmente lo possiamo ottenere scrivetecelo magari in risposta alla mail con cui vi arriveranno gli attestati facciamo un po' un computo insomma di quello che può essere l'interesse medio ecco sicuramente la registrazione appunto poi sarà oltre ad esservi inviata sarà resa disponibile e poi ci vediamo per le prossime fasi come diceva Fabrizio qui abbiamo veramente voluto guidarvi passo passo vi abbiamo fatto vedere spero tutto ma direi che come informazioni hard siamo arrivati a quello che vi serviva per il 28 febbraio adesso andiamo a vedere un po' di configurazione di progettazione possibile nel corso dei prossimi incontri dopodiché abbiamo già insomma stabilito di fare degli incontri successivi il primo dovrebbe tenersi verso gli inizi di marzo con Fabrizio dove andremo a vedere gli aspetti un pochino più tecnici cioè da diciamo per la parte di identificazione degli attori che andranno un pochino a collaborare con voi in questa grande avventura cosa bisognerà fare proprio perché la richiesta tecnica sarà un po' importante insomma vedremo di fornirvi questo servizio in generale il messaggio con cui voglio mandarvi a casa è che sappiamo che è un progetto complesso ma è un progetto bellissimo vogliamo viverlo con voi passo passo quindi cercheremo di darvi tutti gli strumenti per che non diventi un incubo ma perché si trasformi in quello che può essere effettivamente cioè un sogno Fabrizio voglio aggiungere qualcosa ma no niente hai già detto tutto ti ringrazio tanto tanto ringrazio anche la tua dirigente scolastica insomma per la disponibilità insomma è stato bellissimo veramente complimenti e grazie a tutti e per le domande appunto qualche giorno va bene ok perfetto grazie sai buona serata e buona serata a tutti voi grazie di cuore ciao 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 ciao